Diego ma senti essendo tempi duri stai mangiando solo un membro di toro No te lo dico perché mi spiace ma nel tuo libro capolavoro che ha delle foto spettacolari che abbiamo campionato e che tra poco vedremo sui nostri schermi che si chiama finché c'è trippa Diego Rossi insieme a Barbara Giglioli c'è questa frase simpatica perché dietro ogni ricetta poi c'è un invito a quando gustarla o meno gustarla e c'è proprio scritto membro di toro da gustare in momenti duri quanto membro di toro in questa situazione pandemica ti stai momenti ancora più duri allora facciamo così però adesso ti mangi solo il fegato adesso bravissimo mamma mia qua l'avete studiata sì queste sono studiate dopo improvvisiamo i primi secondi dei video di youtube sono i più importanti se non dici se devi dire una cagata bisogna spaccare subito no beh in sti momenti in realtà mi nutro proprio per sopravvivere nel senso che comunque quando sono a casa non mangio carne attenzione già partiamo io stavo per fare la battuta tra di noi non c'è neanche un vegano no beh in realtà non ho niente contro i vegetariani anzi non li tolleriamo a volte li mangiamo pure non ho detto contro i vegani ho detto contro i vegetariani non ho niente e appunto mi nutro di cereali granaglie verdure a manetta però carne poca cioè non è che non la mangio la mangio comunque la carne soprattutto immagino legumi tipo sì esatto legumi cereali sì mi piacciono un botto le verdure però ecco non disdegno il sano e vecchio porco no ma la cosa bella che questo libro è il libro più di cucina più bello che abbia mai visto quella è la mia foto preferita esatto quella è la mia foto preferita quando siamo arrivati a questa immagine sì che è teste di sono teste d'oca quelle lì teste d'oca sì 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 molto splatter molto figo molto c'è un perché c'è un perché c'è un perché ci sono anche due donne no c'è una sonanza no quella non è evoluta poco poco corretta non sono le assassini certo e qua allora tu devi capire che noi siamo noti da nessuno però per quel poco siamo noti perché ci siamo inventati lo yoga finanziario che è un modo nuovo di vedere gli investimenti che includa anche un benessere interiore eccetera e con questa keyword una parola da secchioni di digital marketing sul web ovviamente abbiamo attirato tantissime persone che sono interessate al mondo dello yoga della spiritualità che in grossa percentuale o comunque superiore rispetto alle altre nicchie del paese è vegetariana sì ed è anche molto attenta alle faccende gender eccetera e noi siamo partiti facciamo vedere teste di Anetra ed Enrico che dice se c'è un'assonanza cioè abbiamo ci siamo giocati anni di followers no ma io volevo andare in difesa stavo dicendo guarda bravo bravo in realtà quella foto lì è la mia preferita a parte per la la bellezza no estetica della foto ma ha un un contenuto profondo cioè quella foto lì è lì perché non per fare lo splatter della situazione o per facciamolo essere provocatorio a tutti i costi quanto perché se uno accetta di mangiare carne accetta anche di vederla la la carne in tutte le sue parti e quindi anche le teste tantissimi dicono io mangio carne o comunque la mangiano però nel momento in cui vai a propogli una testa storcono il naso no oddio che brutto no non farmela vedere perché siamo abituati al supermercato ci tolgono le teste bravissimo bravissimo quando che noi compriamo una massa in forme di carne è spersonalizzata è una presa per i fondelli è ipocrita no ma che schifo no un conto la fettina di pollo un conto perché l'hamburger funziona perché è la cosa più bravissimo più sintetica pur essendo reale che c'è ed è comunque se siamo tutti quanti sinceri un atto di ipocrisia adesso noi stessi e questo serve per quello hai capito questo serve per guardare in faccia la realtà cioè se tu decidi di mangiare un taglio di oca di manzo di vitello devi essere consapevole che viene da un animale con una testa e non è che la testa la butti via hai capito la devi utilizzare se no sarebbe veramente uno spreco è un po' come quella lealtà del cacciatore quello proprio puro che quando uccide l'animale però in segno di rispetto addirittura lo sgozza insomma vari rituali adesso lì ci sono anche i rituali dietro è ok però certo che se uno accetta di mangiare carne accetta di vedere queste cose qua anzi dico sempre andate a visitare un un macello e poi vediamo se continuate a mangiare carne perché ci si divide eh caspita io quando vado nei macelli poi per un po' rimango un attimo così e la lavoro tutti i giorni hai mai macellato tu un animale no 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 macellato nel senso di uccidere l'animale no macellato cioè disossato da bestie intere con la testa attaccata tutti i giorni però ucciderlo no no perché ci vuole comunque una ci vuole fegato ragazzi sì chi è che diceva che tu puoi mangiare solo quello che riesci ad uccidere con le tue mani eh questo è Zuckerberg no perché è vero è vero è vero è vero bravo sì ha detto io adesso ammazzerò io gli animali che devo mangiare però guarda che non è una cosa non è una cosa stupidamente è un atto di a un'està verso se stessi soprattutto se prima li hai allevati perché però cioè lì in quel momento lì tu ti affezioni un animale comunque gli stai dietro per anni a volte e poi lo sacrifichi per per la tua insomma alimentazione se vuoi oggi non abbiamo più bisogno di sacrificare animali probabilmente però basta andare indietro le nonne le nonne lo facevano tranquillamente tutte le nonne che conosco io sgozzavano le galline ma le galline ecco forse qualche gallina l'ho ammazzata anch'io da boccia da piccolino ma non solo le galline i coniglietti che ti regalavano la bambina che sparivano magicamente e poi ogni tanto spariva anche il gatto gatti ne ho visti sparire io sì dunque Diego già partiamo a boccia veramente non mangi la carne sì dai no allora io mangio carne non è che non mangio carne però cerco di limitarne il consumo tipo una volta due la settimana? no anche meno dipende sì dipende se riesco perché dipende sai se sono in giro faccio più fatica se sono a casa come in questo momento cerco di mangiare più che altro verdura poi la carne intesa come carne come bistecca non proprio non la mangio se devo mangiare carne prediligo non so il guanciale nella pasta per esempio piuttosto che una fetta di salame i salumi ecco i salumi sono la mia la tentazione quello mi piace di brutto i ciccioli vado fuori di testa soprattutto adesso d'inverno nel periodo di di macellazione del maiale che partiva la madonna all'otto di dicembre finiva intorno a fine gennaio ecco in quel periodo lì si mangia il maiale io anche in cucina cerco di caratterizzare i vari momenti dell'anno con una bestia cioè dice la stagionalità anche degli animali sì assolutamente sì cioè per esempio non so il pollame le oche le mangiamo a settembre perché sono più pronte più è quello il loro momento il maiale io aspetto il maiale ormai si trova tutto macellano tutto l'anno io invece voglio relegare il maiale a dicembre perché è così perché una volta col freddo si macellava non prima che serietà non è se è è tempra sì voglio darmi dei paletti io perché se no sai già stanno facendo confusione facendo trovare le cipolle tutto l'anno quando invece c'è una stagione per la cipolla le zucchine tutto l'anno le zucchine sulle verdure ci abbiamo rinunciato ce ne siamo dimenticati che sono stagione invece no invece no che poi c'è chi ti dice beh ma vabbè ma in serra che problema c'è le trovi anche sono buone anche no 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 mi spiace guarda io ho vissuto sei anni a Bruxelles e ho mangiato i pomodori olandesi per sei anni e sono tornato in Italia proprio per colpa dei pomodori eh ragazzi ci rendiamo conto e ti dirò che non solo a Bruxelles uno dei problemi più grossi per quanto mi riguarda è trovare dei pomodori buoni in Italia dove si trovano i pomodori buoni in Italia ma tutti allora sicuramente al sud sicuramente al sud c'è un caldo e un terreno che offre dei pomodori migliori tutto l'anno sì beh non tutto l'anno secondo me anche lì ci sono i vari periodi tant'è che venivano appesi a volte il pomodoro del Piennolo ma c'è anche quello magari che ne so di Torre Guaceto in Puglia cioè ci sono varie realtà che prevedevano la conservazione del pomodorino in treccia o a peso per lungo tempo però ecco non è detto anche lì che siano buoni perché dipende da come vengono coltivati da quando vengono raccolti dal sole che hanno preso dal terreno c'è un trucco per riconoscere se un pomodoro è buono al supermercato vecchio no mangiarlo mangiarlo perché anche il colore non è reale perché ci sono un botto di tipologie ma sì ma in Spagna hanno il pomodoro rosa che è rosa cioè se tu lo vedi qua dici ma quello lì non è maturo oppure invece a maturazione è buonissimo carnoso molto più buono di alcuni nostri pomodori noi ci crediamo sai i geni del pomodoro in realtà non siamo gli unici il pomodoro è la pianta a cui bisognerebbe dare priorità se vogliamo farci crescere qualche ortaggio noi stessi perché a differenza di zucchine melanzane eccetera eccetera il pomodoro è un frutto è una bacca praticamente e quindi per averlo nel supermercato deve essere raccolto molto acerbo e quindi il sapore non si sviluppa andrebbe trattato come le fragole quindi te lo devi fare tu a casa tutte le cose che troviamo al supermercato di questo genere non vanno bene cioè non sono buone raga inutile ma finché continuiamo a comprarle io l'altro giorno vado ogni tanto a fare lo supermercato anche tu anche io cerco di limitare a detersivi ovviamente tutto se possibile ecologico ma devo comprare anche a volte verdure piuttosto che cerco quelle a chilometro zero in alcuni supermercati ci sono ma assolutamente no il pomodoro cioè il pomodoro d'inverno non esiste il problema è che mangiamo poi spesso troppo spesso le stesse robe quindi non abbiamo abbastanza varianza nel cibo quindi gli italiani mangiano per esempio troppo pomodoro ma il pomodoro è giustamente è pieno di vitamina C è pieno di rame quindi ci ritroviamo in realtà con fin troppa vitamina C sai che ti dicono bevi succo d'arancia in inverno ma se ti sei mangiato 10 kg di pomodori al giorno è inutile bravissimo e non solo nickel problemi con il nickel un sacco di gente è intollerante al pomodoro perché? perché ne stai mangiando probabilmente un po' troppo è la pasta al pomodoro è l'insalata tu vai ai ristoranti ai bar nell'insalata mista c'è sempre è sempre pomodoro anche adesso non è buono ma no d'inverno le insalate sono i radicchi esatto basta mangi il radicchio con l'arancia che è invernale capito ti fai una bella insalata così è morta lì e poi tutte le brassicacce d'inverno c'è una varietà ragazzi che non avete capito cosa sono le brassicacce tutte la famiglia dei broccoli dei cavoli ma ce ne sono veramente tante io mi sbizzarrisco d'inverno e tante volte vado in paranoia perché non riesco a utilizzarle tutte perché ce ne sono tante inserirle tutte nella carta di quel momento quello che sembra essere una stagione meno prolifica in realtà no no assolutamente l'inverno è il momento più bello per quanto ci riguarda da trippa perché comunque abbiamo a disposizione da alto pinambur carciofi tutta la famiglia dei broccoli tutti i radicchi possibili cioè stiamo parlando come dice qualcuno hai parlato di trippa sa va a sandir come dicono qua a Milano hai parlato di trippa noi non presentiamo le persone nei nostri podcast vediamo che la gente li conosca ma poi sotto c'è la descrizione quindi sanno già tutto di te però insomma io leggo Vanity Fair e la prima riga della tua intervista c'è scritto la trattoria più importante del mondo stiamo parlando e gambero rosso ti ha dato i tre gamberi non so forse più di una volta addirittura sì sì beh tutti gli anni meno male sono riconfermati e non c'è una sedia libera dal 2015 il giorno di apertura e non solo il tuo ristorante trippa di Milano lo dico a quei pochi che ancora non l'hanno capito ancora prima di aprire aveva duemila followers su Instagram come cazzo si fa? guarda diciamo che siamo due soci io e Pietro il mio socio è Pietro Caroli lui aveva un blog di cucina quindi era già nel settore io ho fatto due anni un anno e mezzo a girare per i ristoranti a Milano prima di aprire e quindi mi ero creato un bel pubblico e avevo creato tante aspettative perché parlavo spesso di questa idea cioè hai girato lavorando? no no mangiando mangiando sì ho speso una barca da skate sono andato in bancarotta prima di aprire però questo è servito proprio perché prima di aprire avevamo già duemila follower perché comunque avevo alzato talmente tanto le aspettative che sai volevano vedere cioè negli addetti ai lavori già ti conoscevano hai fatto hype molti sì 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 senza voler cioè non è non è stata una strategia non era voluta no no io quando ho un progetto anche adesso con l'osteria ne parlo perché mi piace raccontarlo il progetto no? e probabilmente sta roba qua è servita molto poi Pietro aveva i propri follower e quindi insieme abbiamo creato sta roba qua poi c'è stata un'occasione bellissima prima di aprire in un ristorante che adesso è chiuso ahimè dopo questo disastro che è Taglio che era Taglio dove abbiamo fatto la diciamo l'anteprima di Trippa abbiamo fatto una serata intitolata pane figa per tutti sì dove abbiamo cioè proprio sulla locandina come abbiamo fatto a perdere dove ho servito la matrice che è lì nelle ultime pagine l'ho messa nelle mie Instagram stories di oggi allora cos'è la matrice la matrice è la vagina di vacca facciamola vedere quindi per ecco per par condicio abbiamo iniziato col membro di toro esatto e chiudiamo no chiudiamo no però insomma c'è la matrice adesso la troviamo e quindi questa serata abbiamo spaccato c'era pieno di gente e molto divertente è stato il discorso come si fa la vagina di vacca eh guarda bollita somiglia si tratta come una trippa se vuoi quindi bollita e poi viene servita o bollita così come in foto olio e limone oppure spadellata sulla carta tipo street food si questo è proprio per ricordare alcuni street food magari campani dove ti davano la trippa bollita con olio e limone e te la mangiavi così una bomba sale e limone insomma sale pepe e limone come si vuole ci sta un concept di street food più figa per tutti eh si eh si dai cioè tira più di un carro di buone esatto c'è il pane meo ma poi perché si chiama matrice secondo te ah perché dà la matrice perché sì perché non è solo la vagina ma anche tutto l'apparato anche l'utero si mangia ed è considerato matrice proprio perché dà la vita certo giusto capito e quindi avete prototipato la sì abbiamo spiegato a tutti cosa cosa avrebbero trovato poi no con tante lezioni di anatomia lezioni di anatomia esatto però ha funzionato cioè comunque non servo mai una cosa che non è buona che io non mangerei questo è importante ci sta non è che il membro di toro lo servo per fare il figo no cioè è buono se lo servo è buono ci sono tante cose che abbiamo provato ma che poi non non erano buone ho detto ma perché bisogna fare spettacolo se poi in realtà non è buono quindi no dove è nato questo concept cioè non chiamiamolo concept questo già che ti dà fastidio questa idea questa idea questa idea nasce probabilmente già a Cuneo quando ero alle antiche contrade con Iuri Chiotti che saluto è un amico fratello dove facevamo un piatto che si chiamava pane frattaglie quindi ogni settimana cambiava una consistenza di pane una preparazione fatta col pane e una frattaglia ed era un piatto diciamo povero avevamo la stella al tempo quindi servire un piatto così proprio da contadini da campagna era una bella rottura certo quindi ogni settimana pane ingrediente poverissimo fatto in qualche maniera non so la peara piuttosto che un pasticcio di pane anche un'impanatura poteva essere pane e una frattaglia che cambiava ogni settimana quindi già lì c'era questo amore per le frattaglie ma perché c'è sempre piaciuto mi è sempre piaciuto lavorare le frattaglie perché sono più divertenti da lavorare hai diverse consistenze e poi a me la carne in sé non mi è mai piaciuta più di tanto cioè il muscolo da mangiare così cotto la bistecca non mi è mai piaciuta c'è una voglia anche di fare un discorso come dire di sostenibilità mangiando le frattaglie che sono cose che venivano buttate vengono buttate certo sicuramente non è che noi facciamo non è che noi utilizziamo le frattaglie solo per un discorso di sostenibilità cioè la sostenibilità non si fa solo così ci sono altri modi adesso parlano tutti di sostenibilità e io per primo parlo di sostenibilità riguardo le frattaglie però la sostenibilità si vede in tanti altri ambiti cioè c'è una sostenibilità economica del lavoro i nostri ragazzi cerchiamo di farli lavorare otto ore al giorno quella è anche sostenibilità avere un certo numero di persone per un certo numero di coperti non 30 in cucina per 15 coperti quella secondo me non è sostenibilità certo iniziando da quella economica di un ristorante cioè non può andare avanti un ristorante con 30 persone pagate attenzione non stegisti pagate quindi e quella è una il fatto di fare una raccolta differenziata anche quella è sostenibilità capito la scelta di ingredienti locali magari piuttosto che però sicuramente utilizzare le frattaglie è una forma di rispetto e di certo di sostenibilità e adesso come sta andando ti lo dico perché domani c'è nel casino del nostro paese che come al solito si distingue per la sua imprevedibilità e divertentissima siamo sempre frizzanti creatività brillanti bollicine abbiamo una pandemia con 700 800 morti al giorno sì un capo politico che soffia sul fuoco di questo movimento che si chiama io apro di quelli che vogliono aprire nonostante il coronavirus tu domani apri no o fai da sport almeno no no non faccio né uno né l'altro cosa ne pensi di questa cosa che stanno sbroccando giustamente io li capisco guarda li capisco anch'io io nel nostro business chi se ne fotte nel mio business però in generale capisco una persona per una persona il lavoro non è solo il introito economico è identità è compostezza è dignità vuol dire uscire di casa e sentirsi utile agli altri certo mi dai i tuoi duemila euro quello che prendono di ristori mi va bene ma non mi sento più utile c'è una componente psicologica comprensibilissima infatti secondo me insieme ai ristori finanziari dovrebbe esserci proprio i ristori psicologici perché secondo me ci sono tante persone che al netto del fatto che non arrivano a fine mese hanno come tutti noi un impatto sulla propria psiche pesante dopo un anno di questa situazione però da lì a sbroccare a creare l'hashtag io apro e come dire mi sembra un comportamento infantile perché ci sta è comprensibile ma al contempo se sei una persona adulta sai che da qualche parte bisogna limitare in qualche modo le frequentazioni e gli assembramenti e qualsiasi categoria viene toccata in qualche modo guarda più che infantile io direi disperato nel senso che comunque probabilmente sono in seria difficoltà queste persone e lo siamo anche noi però chi più chi meno c'è chi riesce a tener botta un po' meglio perché magari negli anni ha creato cioè non è che per fortuna tiene botta perché negli anni ha creato un sistema molto solido e adesso in cosa consiste questo sistema cioè avete tante riserve noi siamo formatori finanziari quindi con noi puoi parlare di tutto guarda consiste nel lavorare pesantemente cioè essendo sempre pieni e nel non prendersi più di quello che ci si può prendere in quel momento ok cioè fare i passi lunghi quanto la gamba e non troppo capito tipo come fanno i calciatori quando aprono il ristorante esatto tipo loro anche lì un'altra nicchia interessante guarda lasciamo stare questa quante storie ci sono però hai capito noi non apriamo perché comunque non ci conviene cioè in questo momento secondo noi parlo di noi io e Pietro ci conviene stare fermi cioè più si sta fermi meno danni si fanno perché nel momento in cui vai ad aprire il problema non è io apro il problema è chi viene a mangiare cioè io apro va bene apro però quanta gente si fida tanti ancora sono abbiamo visto che comunque nel momento in cui apriremo saremo pieni così perché la gente vuole uscire a mangiare vuole andare però nel momento in cui lo dice la legge lo dice qualcuno nel governo ma se fai una cosa un'iniziativa presa così singolarmente individualmente non so quanta gente accetti di rischiare una multa piuttosto che tafferugli perché non si sa cosa possa venire fuori no e quindi capisco la disperazione e le preoccupazioni però secondo me ancora è meglio stare un attimo fermi e vedere quanto potete durare non molto ancora veramente eh beh è certo è normale o cominci a non pagare più gli affitti che potrebbe essere una bella idea l'avete preso un accordo gli unici sembra che in questo momento non vengano cioè non perdano sono quelli che chiedono l'affitto sì in effetti quella è una cosa strana ragazzi non ci vengono incontro in nessun modo e non ci sono tavoli per trovare degli accordi per dire guarda allora noi abbiamo adesso è Pietro quello che si occupa di questo aspetto burocratico io cerco di starne fuori il più possibile perché sennò io mi incazzo capito capisco non ho per niente la ti rode il fegato sì mi rode molto il fegato quindi quindi ti dico dovremmo avere comunque un 60% di di rimborso tra virgolette con credito di imposta a parte dello Stato riguardo l'affitto solamente che che intanto li devi tirar fuori non è che credito di imposta se non fai utile non paghi le imposte capito quindi è lì che mi aspetterei da parte del proprietario dei muri un venire incontro dicendo guarda io sono fermo sto guadagno di meno congelo diciamo la mia attività solita le mie spese però però noi abbiamo una perdita oltre a non oltre cioè non riusciamo a pagare l'affitto ma abbiamo anche delle perdite non incassiamo non incassiamo e tiriamo solo fuori capito mentre queste persone che adesso non so non voglio generalizzare però nel nostro caso perdite non hai entrate non è che non hai perdite non hai entrate in quel momento perché dei costi ce li hai noi oltre a non avere entrate se ci fai pagare l'affitto abbiamo anche delle perdite affitto utenze sì tra l'altro abbiamo anticipato le casse integrazione ma adesso non ci facciamo più perché non è che si può sì abbiamo cercato perché visto l'esperienza di marzo abbiamo detto gli diamo perché è arrivata in ritardo a marzo eh sì tanti eh sì invece questa volta abbiamo detto gliela anticipiamo noi così almeno sono anche loro un po' più tranquilli però fino a un certo punto perché adesso non riusciamo più cioè dobbiamo bloccare guarda su questo effettivamente per quanto ad esempio durante il primo lockdown noi abbiamo la nostra azienda in Svizzera in Svizzera è sempre rimasto tutto aperto tutti i ristoranti avevano seguivano in maniera svizzera la limitazione dei coperti quindi c'erano la metà dei tavoli cosa che io sinceramente qua non ho mai visto beh no 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 adesso sì adesso dopo nella seconda ondata quando non ho riaperto per Natale io vado in bicicletta era in Van Diltelvi aprono la prima giornata di zona gialla guarda i ristoranti dentro i bar tavolate tavolate di gente che beveva e mangiava diciamo no allora ritorneremo come prima se non peggio e infatti è successo no a dicembre no questo non te lo posso assicurare perché anche io ho visto disastri a dicembre mentre prima nel lasso di tempo che è stato tra una e il secondo lockdown lì credo che insomma la maggior parte abbia rispettato noi abbiamo tolto dei tavoli poi sicuramente c'è stato chi ha fatto come prima però ma guarda noi abitiamo a Como io a Como non ho visto i ristoranti con meno tavoli poi adesso mi arriveranno i commenti sotto sicuramente però alcuni sì alcuni sì c'è tipo l'osteria del gallo che c'è lì in centro lei dice che ha diminuito però ecco si riesce a rimanere sostenibili limitando i coperci al netto che non sei un virologo come nessuno di noi lo è però mi dico è possibile che non sia scaturare la maniera di tenere aperti i ristoranti ad esempio puoi andare a mangiare solo con i tuoi congiunti per esempio cioè nel senso io vado con i miei congiunti vado a mangiare tavoli distanziati cioè io non credo che il virus passi secondo me è molto difficile no ma finestra aperta finestra aperta a meno 10 cioè raga stiamo parlando di gente che diceva a marzo che il virus si propagava entro i 4 metri sì è vero cioè anche lì cosa parliamo se sono 4 metri prima sono 4 metri anche dopo non è che dopo 3 mesi diventa un metro cioè il discorso è che è molto difficile comunque mantenere la sostenibilità se togli dei tavoli dei coperti perché un conto è se uno ha impostato il suo ristorante e ha 50 coperti però ha uno staff ed è abituato a fare 25 allora certo che va avanti ma se uno ha 50 coperti e ha uno staff per 50 coperti perché è abituato a fare tutte le sere 50 coperti se tu gli togli metà dei coperti o togli metà dello staff certo e gli dai comunque delle sovvenzioni degli aiuti altrimenti non puoi essere sostenibile capito perché non puoi neanche licenziare adesso appunto e non vorrei neanche licenziare uno non vuole ma a volte è obbligato ti portano a essere obbligati se hai costruito un team che spacca ti girano i coglioni a pesante sono lì da tanti anni mi hai capito in cucina soprattutto ma anche in sala abbiamo dei ragazzi che sono lì dall'inizio come fai a dirgli stai a casa decidiamo chi sta a casa come fai a tenerli a lavorare per te per 5 anni qual è il trucco con la frusta ovviamente frusta e cilicio no guarda non puoi allora non puoi pretendere che è un settore dove la gente cambia lavoro spesso perché giustamente anche perché comunque il cuoco ha bisogno di vedere tante cose di fare diverse esperienze per formarsi e quindi la curiosità ti porta anche a girare diversi locali e sicuramente secondo me per un cuoco il minimo è un anno ma il minimo minimo di permanenza nello stesso ristorante per acquisire un minimo di esperienze perché almeno vedi le quattro stagioni capito e vedi diverse ricette diverse pratiche per le quattro stagioni però sicuramente è consigliabile stare di più cioè quindi i miei stanno lì probabilmente perché da trip ogni giorno cambiamo piatti che poi a volte si ripetono a volte le preparazioni si somigliano però comunque ogni giorno hai piatti nuovi con ingredienti nuovi cioè io non so ma non credo che non credo che nessun altro ristorante abbia quel giro di prodotti che c'è da trippa e quindi imparano tantissimo da te ma allora non dico che imparino sono per te io ho visto dei video di un ragazzo che hai che l'hai preso da una scuola sì il seba il seba e lui mi dice vabbè ma non era come gli altri Diego cioè era più amichevole però chissà cioè probabilmente c'è una tua innata capacità di sedurre anche le persone che lavorano con te ecco come siete riusciti a sedurre i milanesi siete riusciti a sedurre anche i cuochi mi piace crederlo sicuramente mantenendoti con l'orientamento sessuale certo assolutamente sedurre professionalmente no probabilmente sì probabilmente sì poi io cerco di dargli tutto quello che ho dopo a volte mi incazzo pesantemente quando se ne vanno forse no 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 io mi incazzo quando mi fanno quando fanno delle cavolate o quando non capiscono cosa voglio quindi ogni tanto il pugno duro ce l'hai cioè nel senso ogni spesso il pugno duro ce l'ho ma esiste un cuoco che non abbia il pugno duro ma guarda è proprio un ambiente quasi militaresco no allora però bisogna distinguere adesso voglio dire è cambiato l'ambiente sicuramente in cucina rispetto a anni fa quando ho cominciato io e anche prima cioè prima era veramente militaresco adesso diciamo che si cerca di renderlo militaresco ma con molta più manica larga ecco c'è un po' più di di tranquillità ecco in cucina non in tutte le cucine ovviamente io cerco di farli lavorare meno cioè otto ore circa perché poi se si sfora non voglio gente che storce il naso se si sfora un po' perché già fai otto ore domenica a casa tutti i pranzi a casa un mese quasi ad agosto 20 giorni a dicembre pasqua e pasquetta a casa direi che non ci si può lamentare non esiste non c'è nessuno che sta cucinando sta facendo le teste di oca e gli dice ah no sono finite le otto ore scusa finisci tu sì finisci tu e questa è la risposta no diciamo ecco quello mi dà fastidio quello mi dà molto fastidio cioè quando io quando c'è da finire una cosa si finisce punto e stop non voglio sentire discorsi su quella roba lì ho perso filo del discorso è bello il bazar atomico è nato per perdersi ecco esatto vabbè parlavamo del regime militare nelle cucine in generale poi che discorsi c'è la musica in cucina sempre tipo chi è che fai durante il servizio tu fai le playlist ma di solito faccio fare i ragazzi Anello una volta al sema cioè insomma Andrea un po' di meno cioè a volte metto io perché c'è musica di merda la tigrea no ma che musica si mette si va più sul rilassante classico o sul largos roba heavy metal che si deve pompare allora Nello Nello mette sempre quella cazzo di musica rap o mezzo no non trap però quelle robe nuove sì italiane e quelle serie lì si mangia malissimo tra l'indie e il rap tra l'indie e il rap sì quelle robe lì che ci sono cose che mi piacciono però un po' troppo quanti anni ha questo Nello Nello ne ha 24 25 una decina meno di te cambia già subito così vecchio io c'ho una dieci in più di te cioè io ascolto roba invece non so o musica italiana tipo Tommaso Paradiso dei giornalisti ci sarà nella vostra playlist Tommy lo ascoltiamo colui che ha scritto la prefazione di questo libro e devo dire uno di quelli che hanno scritto la prefazione perché poi ci sono anche due grandissimi chef grazie scusami devo dire che ecco fra le altre cose il tuo ristorante piace alla gente che piace perché io l'ho scoperto grazie a degli amici che piacciono però non piacciono così tanto come i VIP che vengono a mangiare da te però poi dopo che me l'hanno fatto conoscere ho iniziato a seguirvi su Instagram c'è tutti fanno a gara a farsi vedere che vengono da voi quelli di radio DJ tutti i cantanti esatto come io ho una domanda quando fai quella faccia di Rito la domanda di Rito come possiamo venire possiamo essere invitati allora Enrico c'è sta cosa che tutte le puntate l'ospite a un certo punto lui Enrico chiede di essere invitato a qualcosa che fa l'ospite noi non ti chiediamo di essere invitati a Trippa perché sappiamo che c'è c'è una lista veramente difficile da scavalcare speriamo che duri questa cosa qual era quel film Pucca che c'era quel tizio Funny Games che cercava che faceva una gara a essere invitato in quel ristorante Funny Games no facciamo una gara a essere ah aspetta ma cos'è il American Psycho per andare al Dorsia che poi non esiste c'era questa perché in effetti allora dico una cosa un po' da milanese imbruttito scusate cioè la grana la fanno in tanti però per andare da Diego non basta la grana infatti in American Psycho che erano tutti trader investiti Iuppi eccetera a certi livelli non è che il più figo è quello che guadagna di più è quello che riesce entrare in un ristorante perché ha le connessioni le connessioni giuste noi adesso ci conosciamo bene vero? sì amiconi amiconi no però è vera sta cosa non basta la grana non basta la grana da noi viene chi riesce a prenotare perché ovviamente con tutte queste richieste abbiamo dovuto trovare un sistema come dire mafioso dillo sì esatto abbiamo dovuto trovare un sistema tra virgoletto un sistema oggettivamente uguale per tutti un protocollo sì quindi il primo che arriva e riesce a prenotare si aggiudica il posto non ci sono sotterfugi o amicizie quindi posso prenotare adesso per settembre che sarà il primo mese disponibile no esatto proprio qui il punto cerchiamo di adesso l'ultimo periodo abbiamo aprivamo il giorno prima per il giorno dopo le prenotazioni quindi il mezzogiorno per la sera successiva ok a mezzogiorno è 0 30 era già tutto quindi bisogna mettere su un call center per poter prenotare c'è il vincolo dei tavoli è un nuovo business facciamo noi il call center che chiama lui per prenotare noi avremmo avuto bisogno a un certo punto di un call center veramente perché non riuscivamo più a stare al telefono però a quel punto bucchi tutto l'anno cioè un po' triste esatto bravissimo però per quello noi avevamo prenotato trippa per un mese ah ok avevamo le riserve fino al giorno del mese successivo però anche lì diventa un problema perché comunque per un mese nessuno può più prenotare eh cioè comunque è un po' triste e quindi arrivano veramente gli amici colleghi cuochi a cui a me piacerebbe trovare posto che non possono che non riuscivano no e allora forse probabilmente il metodo migliore è proprio questo cioè o non prendi prenotazioni però non mi va io voglio le prenotazioni voglio avere una certezza comunque oppure fai così cioè dal giorno all'altro capito così ogni giorno uno può comunque prenotare chi ci sta guardando dei ristoratori questo è un problema che hanno tutti immagino come faccio a gestire questo flusso non usi Groupon no secondo me secondo me se c'è una frase che ho ascoltato fra quelle che dici su YouTube quando ti intervistano che mi ha colpito molto perché è molto in linea con alcune cose che insegniamo noi tu non lo sai ma noi abbiamo utilizzato il tuo case history perché so che non ti piacciono le parole inglesi quindi mi viene voglia di usarne sempre di più va bene basta che non usi Brunch no Brunch no ma c'è anche Apericena ti piace ecco quello guarda proprio mi viene la peldoca così mi cominciosi a grattarmi Apericena la trippa ecco noi facciamo questi corsi anche di business e dopo che sono venuto da voi ho conosciuto il vostro ristorante l'ho voluto inserire in un mini corso che abbiamo fatto io e Enrico sul business e abbiamo suddiviso le aziende in tre categorie utilizzando la metafora dell'arte quindi ci sono delle aziende tela bianca cioè proprio delle aziende dove non c'è su niente delle aziende fac simile quindi con il fac e delle aziende capolavoro invece che dici in cosa si differenziano le aziende tela bianca sono quelle aziende che cercano di accontentare tutti facciamo l'esempio del ristorante il classico ristorante che ha tutto tutto un menù gigantesco tipo la bibbia da evitare da evitare da domani facciamo anche la pizza esatto da evitare secondo me secondo facsimile ce l'hai fatto vedere tu prima dell'inizio della puntata non lo diciamo perché non è molto elegante perché non è elegante magari lui si incazza no non facciamo nomi non facciamo nomi però ci sono ci sono dei cloni già di trippa e trippa a suo tempo non ha clonato nessuno però già adesso ci sono i cloni di trippa quindi facsimile le aziende che dicono va di moda la frattaglia raga siete degli ignoranti se non fate le frattaglie oggi siete fottuti facciamo la frattaglia e no mi spiace non funziona così non avrà lo stesso successo di Diego Rossi e poi ci sono le aziende capolavoro le aziende capolavoro forse aiutami possono essere visto che ne sei una di queste possono essere quelle che quando vengono intervistate dicono chi si interessa della concorrenza è un perdente che è una frase che hai detto quando hai rubriaco da kanpai al giapponese quindi mi spiace ma io me ne studio allora è molto interessante questa cosa e lo capirai fra un po' di tempo però sì cioè non io dico sempre che non abbiamo non ho mai pensato alla concorrenza perché secondo me chi ha una idea forte un credo forte e ha qualcosa da dire non ha concorrenza nessuno può fare la cosa che hai in mente tu capito se tu già sei stai cercando ce la metti tutta e hai delle competenze ovviamente per farla non esiste la concorrenza la concorrenza esiste per i perdenti per quelli che non hanno un'idea per quelli che aprono così no a cazzo senza avere veramente una filosofia dietro un pensiero che magari una volta funzionava perché era talmente dico la butto lì magari è cambiato anche il mercato della ristorazione o comunque in generale dei negozi del commercio prima bastava aprire avere il posto sullo struscio dice vabbè comunque io ho tot passaggio e comunque qualcuno entra adesso funziona ancora così boh non lo so una volta funzionava molto mi viene sempre da ridere perché non posso dirti una cosa ma poi lo capirete più avanti ah di questa cosa che ci hai detto all'ingresso ah non la vuoi dire che apri una nuova sì sì il tappo che non è il tappo che non è il tappo ma è perché tu dici adesso stai aprendo questa cosa stiamo aprendo un'osteria stai utilizzando lo stesso metodo cioè chi se ne è fottuto della concorrenza oppure qualcuno l'hai studiato che poi non è vero perché attenzione sentite cosa ho detto all'inizio cioè lui per due anni e mezzo o un anno e mezzo ha mangiato in tutti i ristoranti di Milano quindi della concorrenza se ne è fottuto ma se ne è fottuto come analisi di mercato proprio come diciamo noi nel costo sì quindi ecosistema dove mi inserisco cioè tipo quella pianta lì che sta morendo che si vede là è stato inserito in un ecosistema di merda perché di fianco ha un cazzo di radiatore sta morendo cioè dipende anche dove bisogna sicuramente capire dove stai andando capire il pubblico che hai quello ti serve ma non per decidere cosa fare per decidere come fare meglio quello che hai già in mente di fare quindi non è che quello serve per farsi un'idea è perché avevo fame fondamentalmente mentre ecco questa qua è la mia idea della concorrenza cioè chi chi non ha qualcosa da dire guarda alla concorrenza cioè ha paura della concorrenza chi invece è ha un credo forte deve avere anche un po' di autostima ovviamente però in quel caso lì non guarda la concorrenza tu fai qualcosa per la tua autostima tipo secondo me parli allo specchio sai sì vado da un analista per la mia autostima per calmarla mi piace cioè perché come si chiama il tonalista mi serve anche a me si chiama gin tonic esatto bravo bravissimo alcol e quindi ecco adesso con con questa invece nuovo progetto di cui parlavamo prima faremo qualcos'altro che non farà andare dacci delle antiprime cioè siamo curiosi sto tappo certo al bazar atomico non l'hai ancora detto nessuno allora non posso dirvi alcune cose però si possono dire tante altre che si fa sarà un'osteria quindi se abbiamo fatto la trattoria adesso facciamo l'osteria vino vino esatto principalmente vino niente cucina niente cuochi perché insomma io sono uno la pizza ecco esatto pizza e club sandwich i cicchetti i cicchetti cosa che va di moda adesso li pochè pochè guarda una roba che guarda non farmi aggiungerci imprecazioni di fianco e una pochè di frattaglia esatto si può immaginare bella fa si la declina no e ce sarà quindi bere vino vini e qualche sì cicchetto chiamalo cicchetto chiamalo piattino chiamalo tapas ecco tapas magari no ma non perché non sono tapas perché non voglio confonderle o confondere il concetto cioè anche noi avevamo quella roba lì quei cicchetti lì che poi in ogni regione prendono un nome però avevamo quella roba lì cioè qualcosa da mangiare di fianco al vin no per tappare il buso figata sarà impossibile entrarci come tutte le tue cose lì non si prenota quindi lì è un bar dai l'osteria è un bar fondamentalmente solamente che è la prima forma di bar cosiddetto all'italiana cioè l'osteria è la vera forma di ristorazione italiana la più antica e appunto era ti offro un luogo dove sederti ti potevi portare da mangiare mangiavi lì sai perché perché chi ci ascolta fuori da Milano dice fa l'osteria se no voi dovete capire dove siamo inseriti qua esatto cioè in una realtà del food dove trionfano le mode sì l'artificiosità e l'ostentazione di alcuni processi ne parlavamo anche prima no e quindi portare delle cose autentiche che magari che ne so uno di Sant'Arcangelo di Romagna per lui è normale bravissimo però a Milano no lo faccio spesso sto discorso cioè il discorso è fare una cosa così a Milano esatto cioè ed è fatta per non solo per guadagnarci ma per far vedere per spiegare alla gente cosa potrebbe essere veramente un'osteria cos'era un'osteria e cosa dovrebbe essere un'osteria cioè raga io sono appassionato come te non come te di cibo però quando abitavo in Italia prima di andare a abitare all'estero poi sono tornato c'era slow food c'è ancora adesso la guida meno male oh a Milano non ce n'era una io con la mia compagna dovevamo andare nel Cremonese dove iniziano ad esserci l'osteria buona cioè ce n'è sempre stata almeno una mi sembra l'osteria del treno doveva essere quella vicino alla stazione centrale che è stato uno dei primi ad appoggiare la filosofia slow food e quindi a proporre prodotti slow food però effettivamente in centro a Milano con la nostra creatività con questa sempre con questo entusiasmo che c'è nel milanese questa dinamicità sicuramente avrebbe potuto guardare anche a questo aspetto cioè il prodotto la filiera il recupero di questi prodotti dimenticati in realtà invece non ce ne sono abbastanza dovrebbe pullulare Milano di posti slow food hai capito? di gente che ti copia anche perché anche perché poi c'è Milano adesso sembra tutto diverso però poco prima che accadesse la pandemia sembrava di essere nella swinging London degli anni 60 guarda che Milano stava spaccando di brutto te lo dico un locale al giorno ragazzi perché ho avuto la fortuna di viaggiare molto negli ultimi anni ho girato il mondo e poi ne parliamo di questo per congressi e robe e un sacco di chef di cuochi di imprenditori all'estero guardavano Milano per aprire un locale e vedi Starbucks cosa ha fatto? guarda Starbucks quello è stato ovviamente la roba più grossa l'apoteosi però un sacco anche di chef stellati tre stelle due stelle stavano per aprire Milano e veramente eravamo sul tetto del mondo ma veramente chissà speriamo di tornarci perché devo dire che per una volta finalmente io sono andato a vivere all'estero anche perché Milano quando è che sono 2011 era in uno stato comatoso chiudevano i locali chiudevano tutti me ne hanno parlato e poi sono andato all'estero e invece è risorta quindi magari e sono tornato e è arrivata la pandemia adesso annuncio allora è colpa tua forse no è pazzesco pure troppo c'è stata una bolla forse sicuramente dopo Expo abbiamo un po' c'è sfuggita la situazione di mano di fatti probabilmente questo momento qua ahimè perché però bisogna guardare anche la cos'era cioè un sacco di gente dice cavolo pensa quanti ristoratori quanti imprenditori adesso sono in difficoltà poveretti ok sì mi dispiace tantissimo perché ci sono delle famiglie che rimarranno a piedi in difficoltà e quello che vuoi però bisogna anche analizzare com'era la situazione prima c'erano un sacco di locali che erano aperti da gente che non era del settore solo per investire del denaro allora se vuoi investire del denaro ti compri un immobile e lo metti a rendita piuttosto che un'altra roba il calciatore la ristorazione esatto ma anche loro sì cioè la ristorazione è un'altra cosa è una professione non è che puoi improvvisarti il ristoratore capito tipo io Enrico lo diciamo sempre vorremmo tanto aprire un posto buono che fa il caffè buono perché noi siamo appassionati anche di caffè è venuto qua Francesco Sanapo di dita artigianale che è un top campione italiano che è anche una caffetteria una delle più buone d'Italia a Firenze e abbiamo cercato di trovare un rapporto per aprire una buona caffetteria nel centro di Como che ha un turismo anglosassone che quindi ha al palato paradossalmente mi spiace ma è così più evoluto se volete se volete che parliamo del caffè apriamo il vaso di Pandora e abbiamo fatto tre o quanto due ore e mezza di puntata cioè sta diventando una situazione grave gravissima gravissima per me noi siamo messi malissimo io piango perché dico ma com'è possibile che abitavo nella grigia a Bruxelles e trovavo il caffè decente buono che sa di caffè non che mi fa venire l'acidità decente più buono più buono non decente io ho girato tanto come ti dicevo prima la schiuma del cappuccino oramai la sanno fare meglio loro sì certo sono molto più bravi all'estero che qua in Italia con questo non voglio dire che qua in Italia non ce li abbiamo quelli bravi qua a Milano c'è Orso Nero ci sono i ragazzi di Caffè Sal c'erano i ragazzi di Taglio prima insomma ce ne sono e ne stanno aprendo adesso meno male un po' di più però ancora l'italiano non è pronto a sta roba qua e si sta perdendo un botto di soldi perché i soldi c'è per chi sa fare le cose o sbaglio perché li devi incentivare così le persone perché la cura delle materie prime è la vera radice del successo sì qua c'è un problema però sul caffè c'è un problema di fondo culturale sì cioè noi siamo abituati a bere il caffè in due secondi così pagarlo 0,81 e via beh deve essere nero tostato deve dar fastidio quasi a fine puntata ti faccio un V60 ci abbiamo tutto qua oh vedi cioè invece cavolo il caffè va pagato come la carne va pagata come la pasta il riso cioè non è che l'olio l'aceto il sale tutte queste cagate vanno pagate ok perché se vuoi cioè piuttosto assumine di meno perché tanto noi non è che abbiamo bisogno di mangiare carne noi non abbiamo bisogno di mangiare carne nelle quantità in cui la mangiamo ok quello è ingordigia è sopra bisogno sopra necessità cioè quindi ne acquisti di meno la prendi più buona la mangi di meno stai anche meglio tu e spendi un po' di più stai parlando guardando Mario che Mario è un nomade digitale lui lui praticamente da quanti anni? dal 2012 sei andato tu e dopo me ne sono due marechi perché abitavamo insieme con Quilini e non ha fissa dimora da quell'anno quindi sono otto anni cioè dorme qua in studio? no no lui no no io Airbnb di Airbnb veramente? e ha come bagaglio uno zaino no lo so come ti cuore due borse dai due borse ha uno zaino e una borsa però che cosa non manca nel tuo no perché è vero vabbè fino a poco dopo fa avevo il macinino del caffè poi si è rotto no adesso ce l'hai qui faglielo vedere perché sennò la gente non ci crede il circolatore dell'acqua per il sous vide veramente ce l'ho lì nel cassetto c'è il runner tiralo fuori vai vai lo vado a prendere il runner a nova no era di una marca meno conosciuta che lo trova da 50 euro lo vado a prendere lo usa per sé non è che c'è la ristorante cioè lui gira con sta roba e tra l'altro ne abbiamo parlato perché oggi quando parlavamo di te diciamo ma sai qual è la figata di Diego Rossi che lui non è che ti fa la roba virtuosa molecolare no lui ti dice vieni da me e mangi il vitello tonnato sì però aspetta cosa c'è dietro questo vitello tonnato guardati il video di youtube come fa eccolo qui no dammelo a me che lo metto in camera che attrezzo ragazzi che cazzo è sta roba scusami sicuramente è un runner sicuramente funziona li ho usati anch'io questi aggeggi qua cosa serve me lo dite a casa a casa va pinzato se lo do a mio figlio sembra una roba per il meno la spada è un cannone la spada di guerra esatto va pinzato sulla pentola e c'è una resistenza dentro che scalda l'acqua c'è una cosa che fa girare l'acqua in modo che si mantiene una temperatura uniforme e tu sopra imposti la temperatura un galleggiante un termostato che ti tiene la temperatura è per cuocere in bagno termico si dice un runner quindi per fare la carne bollita cosa ci cuoce puoi farci di tutto veramente sì allora poi dalle uova dalle famose uova onsen le uova onsen sì che poi l'onsen è già cioè loro non lo fanno con runner l'onsen è un uovo che fanno in Giappone la sorgente termale esatto e quelli cuoci a 62 gradi cioè li cuociano con l'acqua della sorgente ad acqua a quella temperatura l'uovo coagulano solo alcune proteine e quindi l'uovo rimane con una consistenza che nessuno ha mai visto fino a qualche anno fa adesso ormai è girato rimane quasi crudo però è pastorizzato ma è quello che abbiamo mangiato a Bali? no no quello è uovo strapazzato fatto alla Gordon Ramsay l'onsen ha tutta la membrana fuori sembra quasi crudo sembra quasi crudo allora l'albume gelifica comincia a gelificare ma non rassoda completamente mentre il tuorlo rimane crudo praticamente perché le proteine del tuorlo coagulano a temperature più alte cioè tu vai a selezionare le proteine da coagulare e questo accade grazie alla durata della cottura e della temperatura certo cioè a quella temperatura che va dai 60 ai 65 perché si può cuocere anche 65 anche a 67 le proteine cominciano a degradarsi e quindi a trasformarsi fondamentalmente e quindi in base al tempo cioè a 62 gradi magari ci vorranno un'ora due ore a 65 40 minuti e via dicendo e quindi per cuocere un uovo quanto ci vuole con quella tipo 40 minuti io ci metto 40 minuti 45 minuti allora fai anche tu eccolo sì sì le facciamo è questo esatto finalmente metti qualche immagine adesso questo qua è anche un po' rotto sopra però se riesci se le uova sono molto fresche riesci a ottenere un uovo bianco guarda il primo là in alto è quello ecco riesci a ottenere un uovo che sembra sodo in realtà è morbido quando vai a tagliarlo il tuorlo esce completamente ed è gelatinoso è una gelatina non è non è sodo non bisogna usare le uova embrionali no le uova embrionali sono una delle ricette che mi ha colpito del tuo libro visto che parliamo di uova che cazzo sono le uova le uova embrionali l'uova non è già in sé un embrione però c'è ancora più le uova embrionali sono quelle che si trovano all'interno delle galline e il caviale beh il caviale sono uova fondamentalmente certo che se vuoi vederla così non lo chiamerei caviale però sono ancora dentro si è ancora formato il guscio quindi la gallina va giustiziata diciamo per prenderle beh ma guarda che in realtà non è che tu giustizi una gallina per quelle uova lì tante volte quando ammazzi una gallina all'interno trovi quegli ovetti lì che si devono ancora formare devono ancora uscire difficilissimi da trovare immagino in realtà no difficilissimi difficilissimi perché perché ammazzano i polli che non sono ancora in età matura per fare le uova cioè quelli che si trovano in giro sono pollastri che non hanno ancora raggiunto l'età da diventare ovaiole ovaiole perché hanno poche settimane li fanno ingrossare certo li pompano a manetta il pollo non è buono non è solo per quello sicuramente è per quello in gran parte ma sono tutti i procedimenti i metodi che utilizzano gli antibiotici che gli danno ovviamente se tu prendi un pollo lo chiudi in una gabbia assieme ad altri polli in uno spazio angusto con una lampada puntata per 24 ore su 24 quindi non hai turni di sonno o veglia devi piantarle antibiotici perché altrimenti in quelle condizioni insorgerebbero malattie perché stanno all'interno della propria ma invece lo sai che in campagna ci sono quelli lì che fanno la mozzarella di bufala con la musica di Mozart sì sì beh ma è figo dai ci sta ci sta c'erano anche tipo la carne cobe sì mi sa anche le uova di selva le galline di selva che ormai è un marchio registrato credo comunque qua su fuori Milano anche loro credo utilizzassero una roba così avevo sentito dire perché non li conosco molto bene però per le volpi per tenere lontano le volpi comunque c'era una musica sì o delle frequenze particolari il fatto sta che certo ben venga cioè quando l'animale sta bene in vita sicuramente darà un prodotto migliore anche dopo la vita se proprio dobbiamo macellarlo sicuramente magari anche il prodotto in sé è meno nocivo mi immagino sì assolutamente quello che ti sto dicendo dà un prodotto migliore non in termini solo organolettici ma anche nutritivi esatto cioè sicuramente guarda questo sicuramente io lo vedo in tutto cioè per esempio il caffè che abbiamo bevuto poco fa un caffè di qualità cioè l'effetto che ti dà poco psicologico sulla mente è diverso dal caffè cattivo cioè il caffè cattivo mi fa venire l'ansia beh ma se bevi un caffè che è amaro come il tossego nero incendiato super tostato sì lo bevi solo per la caffeina esatto questo qui invece te lo bevi e te lo godi questo te lo gusti capito ma secondo me è anche una caffeina di qualità superiore non so come dire è una ma la caffeina la senti dopo mezz'ora comunque i byproducts tutto quello che ti porti dentro che non è caffeina buona non so come dire proprio l'alimento in sé sicuramente è nocivo per il nostro corpo cioè una cosa che non viene fatta bene quando è buono mi fa bene anche l'umore sì a parte il discorso astratto new age scusa noi siamo un po' frecchettoni su questo sì no ma c'è chi dice che l'animale trattato bene è un animale che poi ti trasmetterà sicuramente delle energie diverse di quando invece lo ammazzi o lo tratti non abbiamo prove scientifiche ma voglio crederlo cioè quello sono opinioni mie non è che le professo però ci credo in questa cosa qua non ci sono prove scientifiche perché probabilmente nessuno ha mai neanche ricercato esatto sono stati fatti degli studi ora non mi ricordo bene è molto difficile provare che un animale che fai crescere allegramente poi sia poi ti dia allegria però in effetti però non importa secondo me però esatto a me non importa sta bene bene a me sapere che questo animale è stato cresciuto come più o meno come in natura siamo d'accordo poi quando lo ammazzi gli hai quasi fatto un favore siamo d'accordo in natura sarebbe stato sbranato da un predatore allora c'è una cosa che ho letto di uno psicologo italiano che si chiama Assagioli del secolo scorso il primo psicologo ah sì secolo scorso è vero sono negli anni 2000 voglio che mi ha fatto un po' cambiare idea io sono stato vegetariano per due o tre anni ma non per motivi etici nel senso che proprio non la digerivo più e poi era una fase della mia vita in cui effettivamente non so cioè non mi risuono avevi un rigetto verso la carne incredibile ma capita un sacco di gente vero poi come tanti tante persone come me sono andato in alto adige sono entrato in un rifugio e c'era lo spec e quello e gli è finita la mia esperienza con l'essere vegetariano e cosa volevo dire lo psicologo stavi dicendo Roberto Assagioli ah Roberto Assagioli grazie ti attacchiamo vedi che siamo soci per questo esatto e Roberto Assagioli scrive allora non c'è nessun problema a nutrirsi di animali tutta la natura è costruita a livelli le piante si nutrono dei minerali ok sì certo e gli animali si nutrono delle piante gli esseri umani si nutrono degli animali poi qua finisce il livello normale poi c'è il livello esoterico gli angeli o comunque gli spiriti gli dei si nutrono si nutrono degli uomini dove in nutrono diamo un'accezione inquietante immaginiamoci di essere sbranati da angeli e demoni si nutrono a livello invece probabilmente lo è sbranato filosofico però ecco questa cosa mi ha fatto fare un click nel senso che la nutrizione consapevole di carne mi ha dato innanzitutto la gioia di mangiare una cosa buona i salumi lo speck la carne fatta come la fa lui col sous vide è una cosa che dici la vita è talmente corta mi piace talmente tanto è un desiderio una gioia è un trionfo deve rimanere come hai detto tu secondo me un momento di celebrazione d'altronde come lo era sempre stato anche in passato diceva la carne il problema quindi è quello mangiare deve essere un atto sacro mangiare la carne un atto di devozione verso un essere che sta trasferendo le sue energie dentro di me che se sono energie positive anche lui sarà contento di darle tanto quando noi quando moriamo e sentiamo di aver accontentato qualcuno e aver dato tutto a noi stessi ci siamo sacrificati e la nostra volta moriamo in maniera più serena aggiungo aggiungo perché non è un atto sacro mangiare la carne è un atto sacro mangiare spesso e sempre adesso mangiamo velocemente mangiamo è pornografia mangiamo con la testa cioè pensiamo di volere quella roba lì ma magari il nostro corpo in quel momento si sta dicendo no io vorrei la carotina o magari io vorrei la bistecchina perché sono a corto di ferro quindi non siamo abituati a ascoltare soprattutto il nostro corpo che è la più grande guida che abbiamo per mangiare sano per poter ascoltare imparare ascoltare il nostro corpo nel campo del nutrimento dobbiamo sperimentare cosa vuol dire fare delle prove ma se io per un mese mangio solo carboidrati cosa succede ma non solo sperimentare bisogna sperimentare con consapevolezza perché tanti assaggiare in giro non vuol dire niente bisogna ascoltarsi purtroppo non abbiamo sensibilità e consapevolezza io parlo di sperimento scientifico proprio dico io per una settimana un mese mangio solo verdure cosa succede esatto che è quello che dovrebbero fare tutti purtroppo siamo troppo presi il nutrimento viene preso come una cosa non di rilevanza oppure diventa un'ossessione oppure diventa un'ossessione c'è di peggio ancora in realtà ragazzi noi siamo quello che mangiamo ma veramente siamo quello che mangiamo tutte ste cazzo di malattie di problemi arrivano tutti dall'alimentazione tipo i pipistrelli che si sono tipo Batman arriva dall'alimentazione cioè la gente pensa che prende che c'ha mal di testa perché chi lo sa perché io soffro di mal di testa no vai a vedere magari stai mangiando una roba da anni sei intossicato di quella cosa lì se la togli non hai più neanche il mal di testa ma tante sindrome anche adesso io non sono un dottore però e non voglio neanche fare il dottore però io l'ho provato su di me e vedo che sto meglio togliendo delle cose ho sempre l'acidità di stomaco beh se continui a berti 4 caffè 10 litri di vino e chissà quelle altre cose magari non è proprio sempre l'asse e prendono medicine capito cioè per tappare questo per concludere il problema via medicina no invece no bisogna andare a monte e la maggior parte nella maggior parte dei casi il problema è l'alimentazione cioè ci stiamo alimentando male troppo in primis troppo cioè noi dovremmo mangiare molto meno di quello che mangiano di solito e male cioè tanti prodotti confezionati un botto di glutine un botto di latticini e poi che latticini cioè non dirmi che il latte è quello che compri nel tetrapak le latte è vero beh dai a colazione cosa mangi? sei un po' sono curioso poi ti devo chiedere soprattutto i tatuaggi ricordatemi che devo chiedere il tatuaggio che hai su braccio quello è un tribale invece di lì ne hai uno con i fiori ne ho tanti che non si vedono e non hai visto quelli nascosti esatto e non hai visto quelli nascosti no a colazione mangio mangio bevo del tè o delle tisane dei tè o delle tisane e mangio delle gallette con della marmellata delle mandorle di solito un frutto roba così cioè gallette di grano saraceno piuttosto che di riso burro non mangio latticini perché sono intollerante alla caseina come credo la maggior parte però qua adesso i medici mi diranno come cavolo fai no no tantissimi io la penso nel mio modo non vado a obbligare nessuno però io comunque adoro i formaggi quindi non è che sta parlando uno che vuole fare io adoro i formaggi e li mangio li mangio consapevole che devi molto meno di prima moderatamente e comunque ho fatto un periodo di tot mesi nei quali ho tolto glutine latticini e alcol e i risultati ragazzi è certo da scettico perché non è che l'ho fatto da filo filo new age certo da scetticissimo ho tolto ste robe sono dimagrito l'energia è migliorata e ho avuto molti meno scompensi cioè a quando risale questo periodo ho fatto un incidente in scooter quattro anni fa qua a Milano mi sono rotto il bacino e quindi da lì ho cominciato ad andare da un osteopata che mi ha mi ha detto guarda che non stai bene e io gli dice oh ma come non sto bene sto da dio capito è quello il problema che la gente non sa che potrebbe stare meglio no non sa esatto pensa che quella sia la normalità invece no e da lì ho cominciato a ascoltarmi perché poi togliendo queste cose diventi molto più sensibile e consapevole perché siamo abbiamo probabilmente una situazione di infiammazione generale dell'intestino che è il secondo cervello assolutamente su quello non ho dubbi per molti il primo esatto no no beh ma ci sta ci sta quindi secondo me abbiamo tutti una situazione di infiammazione chi più chi meno dell'intestino perché ci nutriamo male se tu vai a togliere determinate cose e poi le reinserisci capisci no il corpo si desensibilizza e riesci a reinserirle pian pianino magari e vedi cosa succede e io quando ho tolto il glutine per esempio poi mi mangiavo il mio etto e 20 etto e 30 di pasta e mi veniva mal di testa io non soffro di mal di testa mai non ho mai preso un occhi non ho mai preso un aspirina niente non prendo medicine e quindi niente dopo la mangiata di pasta mal di testa immediato cioè proprio boom proprio l'insucada diciamo noi in Veneto e quindi ho capito che intanto io la pasta la voglio ancora mangiare però ne mangio molta meno invece di 120 grammi ne mangi 60 70 80 poi non tutti i giorni il problema è fermarsi con la pasta eh caro mio infatti allora io non potrei mai non potrei mai fare la dieta che fai tu perché il mio cervello non capisce che quello è cibo e che a un certo punto mi ha saziato ma il tuo cervello lo comandi lo comandi tu hai capito cioè è lì e lì entra in gioco la tempra morale cioè devi dire io mi impegno a mangiare un po' di meno no allora ma se io mangio altri alimenti ci riesco io mangio una volta al giorno ah ah beh già quello è positivo infatti sto benissimo però non potrei farlo se mi nutrissi di cereali perché il mio corpo dice ancora 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 scusa la pasta però è un cereale eh ma io infatti la pasta la evito come la peste ah ok perché se me la metti davanti io me ne posso mangiare 400 grammi il mio cervello ma anch'io non capisce che cosa è anch'io ne potrei mangiare ancora due etti dopo però sto male capito quindi cioè e secondo me è anche un percorso che devi fare devi abituare il corpo a mangiare meno all'inizio soffri perché io cioè che mangiavo parecchio soffrivo di brutto cioè avevo sempre fame mi impegnavo a resistere oppure a mettere in bocca qualcosa no un frutto una roba e poi pian pianino lo stomaco comunque si riduce non ha più bisogno di quell'apporto eh e dimagrisci ma stai meglio hai più energia no ma sfondi una porta aperta solo che io questo percorso sono riuscito a farlo senza sforzo minimo con le proteine animali eh io le uova guarda con le uova io potrei nutrirmi solo di uova beh ma le uova anche a me piacciono molto però ne mangio poche anche di quelle cerco di evitare mangio se posso del pesce ma anche lì poco e carne non l'ho mai comprata a casa la carne cioè mai comprata proprio il problema fondamentale è che non spesso mangiare troppo un alimento ci dà dei problemi ma questi problemi molto spesso arrivano in là nei giorni nei mesi negli anni quindi non riconosciamo una volta che tu fai questi esperimenti come hai fatto tu come ho fatto io come hanno fatto tante persone il problema il mal di testa l'aria nella pancia è tangibile arriva prima sì sì a me persino su certi alimenti come la pasta anche il formaggio appena lo metto nel piatto non li mangio quasi mai e mi piacciono anche a me appena lo metto nel piatto inizio già a sentire lo stomaco che va in acidità il glutine mi fa ma è la stessa cosa per me mentre mangio inizio subito e gli dico vabbè lo so già cioè il mio corpo ha imparato talmente bene che quella cosa non va o va comunque per esempio con la pasta se da due settimane che non mangio pasta non succede niente secondo giorno dico minchia me ne mangio un'altra ecco lì subito il corpo dice basta perché comunque tu puoi mangiare qualcosa che non va bene perché noi abbiamo le capacità di pulire l'organismo però gli devi lasciare il tempo se tu ogni giorno mangi pasta bevi come un cane formaggi il corpo è intossicato e poi non ha il tempo di disintossicarsi un'altra cosa che sarebbe importante è il digiuno cioè io cerco di mangiare una certa ora e poi fino al giorno dopo non mangio più passano 16 ore 14 ore il digiuno intermittente sì cerco di farlo ogni sera poi è difficile perché tante volte io lavorando mangio cioè devo assaggiare in continuazione capito quindi l'ultimo assaggio lo faccio magari alle 10 e mezza ma infatti c'è chi lavora nei ristoranti come te è un casino è un casino sono tutti belli in forma solitamente per quello per quello perché c'è il cibo lì davanti cioè ogni due per tre c'è chi non si contiene comincia a mettere in bocca a mangiare e ciccia anche per stress cioè anche se poi tu cambiando spesso la carta non è che è sempre la stessa cosa io devo assaggiare ma io poi assaggio tutto sono al pass assaggio praticamente tutto quello che esce porco giusto fantastico quindi è difficile io mangio carne quello che ti dico mangio carne perché la tartare la battuta la sera la devo assaggiare quando esce per vedere se è a posto di sale se è a posto di acidità e le assaggi tutte 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 sì tutte escono 20 battute tutte assaggio ovviamente sì una punta però quella punta lì a fine serata sono 100 grammi di carne fighata quante ne rimandi indietro di piatti statistiche no allora non li rimando indietro sono bravi i miei ragazzi li aggiusto magari perché sai c'è quel tocco sì ma Masterchef lo faresti in che senso lo farei cioè se ti chiamassero come giudice come giudice come giudice questa maschiazza no non lo so no come inserviente come operatore televisivo allora sto già facendo ho già fatto un'altra cosa che uscirà a breve come giudice Urca sì ma anche l'anno scorso sì Cuochi d'Italia ah certo cioè l'abbiamo fatto come ospite sì quindi sì a me piace molto giudicare perché ritengo sicuramente ti chiamano no perché a parte che noi non contiamo niente perché siamo nati da tre mesi però hai una capacità comunicativa che forse sì ma non guarda cioè a me piace molto giudicare perché ritengo di avere più palato che mano e su questo guarda tutti possono dire cioè chiunque può dire che non sono un bravo cuoco ma non che non ho un buon palato questo è il punto perché questo è il mix giusto cioè bisogna saper sia cucinare non tutti i cuochi hanno un gran palato assolutamente non è una prerogativa cioè devono essere bravi a far da mangiare sicuramente ma non non necessariamente devono avere un gran palato e io invece ritengo di averlo punto domani analista per abbassare esatto per abbassare no però ho detto magari posso non essere un bravo cuoco quello assolutamente quindi a giudicare certo che se fa da mangiare qualcun altro non devo cucinare io mi piace giudicare però ecco adesso non è che vado in cerca di giudicare non me ne frega niente mi piace sicuramente trasmettere quello che ho imparato perché quello che ha colpito molto del tuo progetto io non sono un addetto ai lavori del food che nessuno di noi lo è però è proprio quello di l'esperimento che avete fatto di portare la cucina fine dining come si dice quindi la cucina degli chef stellati insomma quelli che vanno da master chef è il mega trend i cuochi bravi che a me personalmente ha rotto il cazzo io non ce la faccio più perché vai a casa di qualsiasi amico sono tutti diventati idrogeno o sous vide reber siri reber siri sì ecco quelle robe lì veramente io dico vabbè però ecco da voi c'è ma non si vede c'è la figata di trippa è che ripeto quello che stavo dicendo prima che poi non sono riuscito a finire perché giustamente qua siamo fra amici tu io ho mangiato il tuo vitello tornato perché sono fanatico di vitello tornato se lo vedo in lista lo devo sempre mangiare e poi mi avevano detto amici Martina la nostra collaborativa ci fa beh se vai da Diego devi mangiare per forza vitello tornato che forse insieme alla trippa fritta è il tuo piatto più famoso trippa fritta io ho detto beh l'assaggio ovviamente goduria totale al settimo cielo poi vado a vedere per prepararmi all'intervista di oggi vado a vedere il tuo video youtube dove spieghi come fai sto il territorio tornato e ho detto ah ho capito perché è così buono perché dietro c'è idrogeno no idrogeno azoto forse azoto azoto scusa idrogeno il nos idrogeno lo spara e salta in aria la cucina l'idrogeno per dirti quanto sono addetto ai lavori quella roba lì poi lo prendi lo metti nel frigo lo rilevi e poi c'è una crema che è fatta da due creme diverse e poi metti dentro il sughetto e poi lo tagli in una determinata maniera seguendo il taglio c'è dietro c'è un lavoro che è in tutto e per tutto ha i metodi che sono quelli che vediamo a Masterchef che vanno tanto di moda della cucina un po' più tecnica però non è ostentata diciamo che il vitello tornato è il piatto più tecnico che c'è da trippa ok cioè uno pensa che il vitello tornato sia una roba no il vitello tornato di trippa è il piatto più tecnico che abbiamo lì dentro facciamo tante altre raffazzonate così molto più contadine ecco quello lì è il piatto invece veramente tecnico e l'idea quello che hai detto tu è importante perché per fare una trattoria arrivando da un ristorante stellato fine dining chiamalo come vuoi sicuramente devi cercare di non spaventare la gente perché chiunque apre un posto cracco ammetti che cracco apra una trattoria sicuramente dirà sì vabbè che trattoria vuoi che faccia farà le sue solite figate che è quello che pensano certo quindi devi fare qualcosa che non spaventi la gente deve vedere un impiattamento non dico buttato lì perché anche lì c'è un lavoro visto che fai l'ondina sì però ecco quello lì anche nell'impiattamento è forse uno dei più curati capito e dei più studiati quel piatto lì ma tanti altri non lo sono sono semplicemente messi gli ingredienti nel piatto punto perché il valore di quel piatto è intrinseco è nell'ingrediente cioè è come se tu volevi dire guarda io so fare le cose però non c'è problema questo per dimostrarti che sono bravo però in realtà se vuoi mettila così mettila così c'è stato un critico che ha scritto che non sapeva non si capiva se lo facessi apposta di impiattare male o se fosse mancanza di no allora paranoia totale voglio dire se arrivo da un certo mondo magari ecco perché magari non lo sanno tutti ma tu hai avuto esperienza sì in quel mondo lì dei ristoranti stellati magari è voluto il fatto che impiatto in un certo modo esatto proprio perché nella trattoria non devi avere e poi non ti devo spiegare troppo in profondità come sto facendo una cosa ti te che da mangiare punto cioè non rompermi i coglioni scusate no no devi vieni lì mangi ok se ti piace poi io ti dico come lo faccio non è un problema però magna intanto allora sono curioso cioè c'è un sacco di gente che viene mangia la lingua e salsa verde che è un piatto banalista lingua e salsa verde capito e mi fa mi guarda mi fa e la lingua a bassa temperatura salsa verde con l'uovo no 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 non è a bassa temperatura è bollita basta saper bollire le cose gli dicono perché tanti pensano che il bollito lo metti su lo lasci andare no anche il bollito ha una cottura capito quindi lì entra in gioco veramente le capacità la manualità e la sensibilità con il runner tu imposti una temperatura non ti serve sensibilità sai che quel tempo lì in quel tempo lì è cotto l'ingrediente quindi ecco anche io uso il runner lo uso pochissimo forse solo per il vitello tonnato quasi e magari uso più il sifone perché mi piace la consistenza che dà il sifone questa ariosità no questo volume che dà le salsi è quello all'azoto esatto quello che usi per la crema della tonnato che fa la spuma esatto crei delle spume però non lo scrivo non è che scrivo spuma di io scrivo sempre salsa che poi è una spuma magari ma è una salsa non me ne frega a me di scriverti che è una spuma è una salsa la carne cotta alla braccia magari prima viene passata in runner non è che ti scrivo carne cotta a bassa temperatura o cbt come scrivono è l'antimilanesità in sostanza perché questa cosa è proprio per quello che funziona capito è il regno della convivialità del saper mangiare assolutamente cioè mentre prima appunto tutte queste tecniche cioè quando tu mi dici nel menù azoto la prima cosa che mi viene in mente ma io mica sono un laboratorio di chimica cioè io voglio mangiare e prima parlavamo di cibi sani cibi non sani anche questo clima conviviale questo modo di esporre piatti anche quello è cibo non è cibo per il corpo è cibo per la testa ti ricordi quella volta a Venezia era proprio lì che volevo arrivare io ho una curiosità è la stessa cosa quella dei menù quella cosa lì no io ho quello sulla trippa di arrivo ah no aspetta prima visto che stiamo parlando di menù poi non volevo perdermi questa chance perché mi interessava vai vai siamo stati a Venezia e c'era la proprietaria di questo bellissimo relais che salutiamo ah relais Alberti Alberti io conosco bene Venezia e lì dietro c'è un ristorantino che sicuramente ah ma la Mocco c'è un posto domani vado a Venezia dopo te lo giriamo ma magari lo conosci da Maoretto sì lui si chiama Maoretto il nome del posto non lo so sì comunque ok ho capito probabilmente il tuo stile e sta signora qua gentilissime persone per bene però mi ha aperto un mondo perché lei aveva un ristorante ha aperto anche l'Ido da breve a breve da poco e praticamente mi fa no beh noi abbiamo ottimi risultati riusciamo a monetizzare molto bene anche perché seguiamo il metodo di questo formatore io purtroppo non mi ricordo bene che sia però è uno è uno che va molto per la maggiore sui social che ti spiega come strutturare un menu affinché tu possa moltiplicare le tue revenues seguendo ad esempio sulla carne adesso non mi ricordo i metodi che usava non ti dice come strutturare il menu in termini di cibo ma proprio sul menu come posizionare i tuoi piatti per farci anche la gente compri di più quella roba su cui tu hai più margine sicuramente ci sono degli studi che ti dicono l'occhio dove va a sbattere esatto è scientifico io la trovo una cosa però no però no che vuol mio un diploma fioi ragazzi basta la chiarezza ok cioè che tanti che fanno queste carte perché non sono menu si chiamano carte in realtà il menu è una proposizione di piatti decisa quella che hai al matrimonio agli eventi la carta invece sono la divisione tra antipasti primi secondo detto proprio alla Carlona comunque se tu cominci a scrivere intanto in caratteri poco comprensibili quindi non il Times New Romance per capirci ma che cavolo io adesso non sono esperto comic sense ecco benissimo cominci con questa roba qua poi cominci a scriverci parole strane ok o a mettere delle finestrelle da una parte dall'altra asterischi già lì fai una confusione tremenda la carta più chiara che c'è è antipasti primi secondi con sotto i nomi ok senza e anche lì nei titoli chiamiamoli titoli dei piatti essere sempre il meno prolissi possibile il più chiari e diretti possibile addirittura noi eravamo partiti proprio con vitello tonnato baccalà mantecato punto cioè carne alla braccia con verdure di stagione punto mentre poi per esigenze anche di servizio nel senso che poi tutta la gente chiedeva ma quali sono le verdure di stagione allora devi fermarti al tavolo a spiegare tutta la carta allora abbiamo deciso di scrivere un po' di più però l'idea principale esatto è quella lì eccolo adesso questa è attuale questa sì perché poi non le aggiorniamo non serve a niente aggiornarle alla carta del mio ristorante tutti i giorni cambia tutti i giorni vedi zuppa del giorno risotto del giorno questa è vecchia è vecchia perché all'inizio addirittura avevano detto non scrivo neanche i nomi non mi interessa cioè tu devi mangiare ovvio che ti dico cosa mangi ma ti devi fidare basta sei qua vuol dire che mangi bene basta non scrivi no ovvio che se uno ha allergie intolleranze me lo deve comunicare e via però ecco questa era l'idea minimalismo perché fantastico perché adesso tutti scrivono ti faccio la mozzarella della battipaglia con sopra l'alici del cantabrico il pomodorino c'è il titolo bellissimo con tutte le provenienze che da una parte è anche carino certo questa cosa qua il primo che ha utilizzato questo metodo è stato Aimo di Aimo e Nadia perché utilizzava dei prodotti di eccellenza che poi magari negli anni sono diventati slow food addirittura e quindi aveva ragione di comunicarli perché tu stavi dando un prodotto diverso mentre l'altro scriveva pasta al pomodoro tu scrivevi pasta di gragnano con pomodoro di quella zona lì e dopo vabbè fatto in quel modo lì però lì certo che ha un valore e anche noi in trattoria tante volte scriviamo il prodotto ma tante altre no perché lo diciamo a voce o perché è ormai scontato che se vieni lì e ti serve un broccolo fiolaro è un broccolo fiolaro di quel posto lì super buoni capito o comunque tu sei il terrore dei fornitori ho letto a Milano a Milano ti odiano tutti ma ti amano in realtà credo mi vogliano bene nel senso che comunque rompo le balle però anche per il fornitore c'è molta più soddisfazione nel vendere un prodotto di alta qualità a uno che veramente lo capisce e parliamo dal tartufo alla carota di Polignano capito cioè se uno sa di cosa sta parlando con il fornitore addirittura tante volte è capitato che io dicessi regalassi dei prodotti ai miei fornitori che non conoscevano che prendevi da altre zone no regalassi in senso metaforico cioè gli dicevo la conosci quella roba lì vai là ma infatti io quando sono venuto a mangiare da te grazie ai due amici in comune che abbiamo che saluto Enrico Maria Porta e Stefano Aquino che mi hanno invitato a venire a mangiare da te allora innanzitutto avete parlato perché io non riuscivo ad entrare nelle discussioni perché sono ignorante avete parlato solo di cucina e di vino e di ristoranti per tre ore cosa che io non faccio di solito ci tengo a dirlo cioè quando sono fuori per me io non parlo di cucina a meno che non siano seduti davanti al piatto mi ricordo che ci hai fatto la testa così perché avevi una specie di succo di giugiole no cos'era una roba mi hai detto guarda una roba ho trovato ed eri tutto avevi gli occhi infuocati di amore per questo succo Enrico era in brodo di giugio ero in brodo di giugio no noi erano giugio e probabilmente erano carrube carrube grazie sì 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 perché me lo ricordo perché è stata una roba sconvolgente cioè veramente una roba cioè fa parte della tua vocazione cioè tu lo fai in automatico questa roba cioè non è che dici siccome ho un ristorante figo devo prendere una roba figa ma tu lo fareste anche gratis no 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 io non lo faccio per il ristorante lo faccio per me cioè spesso mi dicevi ecco mi metto la frase che hai detto raga non so ancora come lo utilizzerò ma so che devo utilizzare questo succo di carrube biodinamiche strafighe cioè tu parti come un artista che dici devo fare un quadro non so come finirà allora tante volte quando mi chiedono come facciamo pensare i piatti di trippa cagata anche lì cioè allora alcuni sono piatti strettamente regionali quindi seguo la ricetta altri io so che in quel periodo ci sono questi prodotti compro i prodotti li compro e poi quando ce li ho lì decido cosa fare come abbinarli ah vedi 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 in base cioè dominano i prodotti il prodotto che comanda infatti una frase che ho letto che mi sono appuntato qua è che poi mi fai un libretto con tutte le citazioni le frasi storiche anche gli antiossidi poi mi dai i fogli sì perché io non le so cioè io non è che ho la mia scheda con tutto quello che dico le citazioni invece è bello quando gli altri recuperano le tue citazioni e poi li scrivi sui muri cucinare senza l'ego del cuoco il mio appunto qua significa fare un passo indietro e dare spazio a un pensiero che guida un nuovo movimento e poi la mia domanda era quale movimento è il movimento è della cucina senza ego sì quello del allora io ovviamente ho aperto una trattoria quindi il movimento per me è quello della cucina popolare quello della cucina di trattoria poi trattoria è già movimento trattore trattore e in realtà secondo me è lo dico da tempo questo movimento nasce sicuramente da un ego che viene messo un attimo da parte per guardare più al prodotto al cliente questo non vuol dire che dobbiamo piegarci al cliente io non mi piego davanti al cliente ok cioè è il cliente che sceglie di venire da me perché io offro quella cosa lì certo e quella è identità se si chiama identità quindi il cliente non ha sempre ragione no un cliente quasi mai esatto quasi mai e beh certo come diceva Steve Jobs anche perché la maggior parte dei clienti è ignorante ignorante in senso buono certo cioè non è tenuta a conoscere quello che succede dietro ok perciò è ignorante in quel senso lì quindi noi siamo lì per spiegargli qualcosa con umiltà però ecco non è che ha sempre ragione il cliente il cliente cioè io quando il cliente ha ragione io ho offerto cene a 12-13 persone perché avevo sbagliato punto cioè quando io sbaglio sbaglio e lo ammetto e ti offro la cena non è che dico beh guarda veniamoci in conto quanto sei schiavo delle recensioni su TripAdvisor zero zero nel senso che io non le guardo cioè le guarda Pietro quelle lì e risponde in maniera sagace risponde sì sì è bravissimo io non saprei cioè io se vedo una recensione di un deficiente capito gli dico senti pirla sta a casa tua e non rompermi le balle io sono come te infatti non sto lì a spiegare che cazzo ti devo spiegare se hai scritto una roba così però meno male che hai un socio che invece lo fa mentre c'è Pietro esatto che da moderato quale è è diplomatico riesce a rispondere in maniera veramente puntuale non le guardo io non le guardo ovvio che quando ne leggo qualcuna perché me le legge lui mi dice oh guarda questa cosa ha scritto qualcosa da imparare trovi sempre ti fai no allora certe volte dico beh guarda quella volta lì può aver avuto ragione questa qua però però guarda sono veramente poche quelle volte lì sì hai una recensione sola a una stella su 866 è come se ma sei sbagliato sono quelli che non sanno usare i software e mettere una stella a posto che 5 sì non so di cosa si sta lamentando la leggicela leggila ah quindi è una straniera che non gli avete dato il dolce perché aveva c'era i turni certo perché allora tanti stanno discutendo su questa cosa dei turni da trippa allora il discorso è questo avete messo i turni ci sono sempre stati quasi da non dico da subito ma ero fra i raccomandati non siamo stati dentro tre ore all'inizio non c'erano i turni non c'erano i turni poi quando abbiamo cominciato a ricevere veramente tante chiamate abbiamo detto noi non possiamo dire di no cioè prendere 39 persone ogni sera e dire di no a 800 capisci bisogna trovare una soluzione limitiamo il danno cioè esatto e quindi abbiamo detto facciamo il doppio turno questa cosa deve essere reciproca cioè io ti do una possibilità in più di venire da trippa e tu accetti però di stare dentro non a un'ora a due ore cioè in due ore ti do da mangiare sicuramente hai capito poi se per caso tu hai la prenotazione di 7 e mezza e ti devi alzare alle 9 alle 9 e mezza ok e arrivi alle 8 e mezza in ritardo t'attacchi e cazzo come si dice no no ma è così nel senso che se io ho un appuntamento in posta oppure dal dottore oppure anche da un amico senza mettere robe istituzionali cioè cerco di essere puntuale quello fa parte della mia persona del mio modus no e perciò se arrivi in ritardo può capitare che arrivi in ritardo certo che discorsi però poi ti adatti tu esatto però in quel momento lì sai che ci sono delle regole no sai come si fa si fa una catena e in che senso una catena di ristoranti trippa scusa bravissimo trippa anche questo l'hai letto che odio le catene c'era scritto no questo non l'ho letto ma non ne avevo dubbi però mi domando una persona che ci sta ascoltando che magari non ha il sacco fuoco che hai tu dici ma cazzo ma apri tre come tutti che dicono ma ascolta ma apri un altro no vedi ma apri un altro sei pieno allora intanto io non credo nelle catene difatti ho aperto trippa adesso aprirò l'osteria con altri soci ed sono due cose completamente a sé non mi piacciono i posti uguali o riprodotti i posti sono tutti unici e non perché cioè e sono unici perché sono fatti dalle persone che ci sono in quel momento in quel posto non da un sistema da un programma da una standardizzazione un algoritmo no sono fatti dalle persone dai muri dall'ambiente di quel momento dalla location da tutto quindi sono unici assolutamente perciò non ci credo nel fare un altro trippa perché non sarà mai unico perché io non potrò essere lì quanti fondi di investimento sono venuti a bussarti la porta per fare guarda in realtà stai scherzando trippa un brand fantastico andiamo in america qualcuno è venuto qualcuno è venuto è venuto un russo che ha lasciato cospicue mance per convincerci ma no e quando sono stato io in giappone o a hong kong così ci sono stati delle proposte però cioè è sempre quello la condizio sine qua no se non ci sono io è difficile che il posto parte io posso anche noi non abbiamo ricette capito è quasi tutto improvvisato perciò non come fai è il pro il contro di trippa cioè il fatto che non è riproducibile e il fatto che è unico è il pro ma invece c'è un esempio che mi salta in testa quando parliamo di questo che è Jamie Oliver che quando si va in Inghilterra qua abbiamo uno che ha abitato quattro anni in Inghilterra Enrico quell'altro che c'è ancora la residenza in Inghilterra ma non lo diciamo no no ce l'ho a Londra sì 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 certo per le tasse esatto per le madere bravo e Jamie Oliver beh ma lui tanto può farlo ottima idea perché lui non risiede da nessuna parte io mi sposto sempre certo Jamie Oliver a Londra prima che fallisse era ovunque cioè tu praticamente al secondo punto è diventato prezzevolo c'era un kebabbaro col logo di Jamie Oliver andavi al supermercato c'era addirittura la gondola con i prodotti di Jamie Oliver c'era il ristorante italiano col marchio Jamie Oliver c'era il ristorante gourmand di Jamie Oliver c'era il ristorante cioè Jamie Oliver era ovunque era un nome un brand non hai pensato mai anche tu di io non sono capace nel senso non è il mio lavoro ognuno ha le proprie attitudini questa non è la mia attitudine io non sono capace di fare un un qualcosa senza che io sia lì in prima persona a risponderne cioè ne va più cioè ci tengo di più alla mia faccia che a quello che ha i soldi o al risultato che può avere quindi tu hai uno stile di vita amorigerato quindi abiti cioè non so a casa hai spendo un sacco di soldi guarda sono veramente uno scialacquatore è in cibo in in cibo in qualità ecco in qualità tipo quali sono le cose più costose io fumo la pipa quindi compro le pipe fumo sigari quindi compro sigari tatuaggi no tatuaggi no scusa che cosa mi fai dire Rolex no orologio ne ho uno non è che ne compro mille però è buono di caffè quanto spendi di caffè sì grazie a Maela che è una delle nostre insomma amiche che producono caffè ne spendo di meno perché mi fa tanti sconti però personalmente a casa e non in ristorante però ecco in tutto quello che può essere cioè in tutto quello dove c'è da spendere io comunque cerco sempre la roba che costa di più ma anch'io sono come te ma non perché cerco la roba che costa di più perché casualmente le cose che mi piacciono costano tanto ma quindi voglio dire non è che vivi una vita di stenti perché non hai una catena assolutamente assolutamente mi accontento ma ragazzi stiamo parlando di accontentarsi molto bene vero sì faccio tanti viaggi ecco spendo tanto in viaggi come cazzo fa cioè io ho degli amici anche di infanzia che facciano i cuochi e comunque da sempre il cuoco è quello che la sera deve lavorare e che fa fatica a fare vacanze perché comunque non chiudono mai questi ristoranti devono rimanere aperti ma perché noi facciamo un mese ad agosto circa quasi un mese 20 giorni quasi a dicembre Pasqua e Pasquetta poi ho avuto la fortuna di viaggiare molto per congressi o cene a quattro mani in giro per il mondo ecco e quindi non mi mancano i viaggi ecco non mi mancano i viaggi cioè adesso ti mancano perché non si possono fare in realtà non mi mancano i viaggi proprio perché cioè certo che vorrei andare a Londra un paio di giorni a farmi un giretto andare e tornare a Lisbona tornare in Messico andare in Scozia andare alle Faroer certo che in Islanda mi mancano queste robe qua ma tanto quando hai aperto il ristorante però ci sei 100% delle volte allora sì assolutamente se manco manco o per il mio compleanno o per il compleanno della consorte se c'è la consorte e per i viaggi di lavoro ok che poi ovviamente il viaggio di lavoro comprende sempre una parte di svago perché non è che vado e torno di bocce vado in Australia non vado giù due giorni e torno in Rio sono un amoro vero però ecco sono sempre motivazioni riguardanti il lavoro non è mai che prendo e dico beh vado a farmi un viaggetto io sta settimana perché non mi sembra corretto nei confronti dei miei ragazzi in cucina prima di tutto e poi perché cioè io voglio esserci da trip voglio farle io le cose ma i topi ballano quando non ci sei beh un po' sicuramente cioè un po' sicuramente sono più rilassati quello me lo dicono anche loro ma ci sta dai ci sta e quindi quando viaggi scusa no no e dico e quindi quando viaggio non mi preoccupo neanche più di tanto per loro perché a parte Andrea che è l'unico che quando manco mi dice mi è mancato perché lui ha bisogno di me il lecchino il lecchino no non è il lecchino Andrea è proprio che lui ha bisogno della guida forte sì ha bisogno di avermi lì senti tu hai girato un botto dove dobbiamo andare a mangiare bene all'estero dove è il posto che dici ti devo andare e là si mangia bene di brutto lasciando stare il Giappone che secondo me è un campionato a parte è un campionato a parte è un campionato a parte il Giappone però ti potrei dire tranquillamente la Spagna ma proprio è vero ne parlavate quella sera là intorno a Barcellona e Girona ma guarda io ho girato tutta l'Andalusia più volte e si mangia da Dio Paesi Vaschi si mangia da Dio Madrid ho mangiato bene Barcellona ultimamente ho trovato dei posti fantastici la Galizia anche un po' più a fatica ma si trova e si mangia bene Leon tutta la Spagna forse la parte sopra Barcellona ecco un po' meno però insomma non conta perché comunque è corta comunque quella parte esatto e poi il maiale spagnolo secondo me ti insegna l'umiltà il segreto in Italia parliamo un po' troppo di maiale ma mi sa che non abbiamo tanto capito ma guarda in realtà anche noi abbiamo il maiale buono ma l'hai provato il segreto iberico si ma stai parlando noi abbiamo la mora romagnola abbiamo il nero dei nebrodi abbiamo il nero calabro guarda ce ne sono veramente cinta senese ce ne sono una svalangata non li cito tutti ma anche solo il maiale pesante nostro che sono di solito incroci large white duroc o anche solo large white se fatto come si deve e ti cito Bettella per dirne uno un'azienda che lo alleva comunque abbastanza bene perché poi per farlo bene bene bisogna farlo in casa cioè devi dargli le cose che scarti tu da mangiare di verdura e allevarlo per due anni come si faceva una volta in campagna ok allora viene il porco fatto bene però diciamo che Bettella lavora molto molto bene e soprattutto ha dei maiali che hanno un po' di vita non sono di sei mesi capito quindi comunque anche noi abbiamo le eccellenze se vogliamo solamente che nella grande distribuzione troviamo sta roba qua in Ticino dove ci consigli di andare a mangiare noi lavoriamo lì in Ticino mi sa che lì dai trova qualcosa no ma non perché dopo guardo tra i miei appunti magari c'è qualcosa ecco perché sono curioso però non sono preparatissimo ecco sul Ticino allora ti portiamo noi cioè come ti documenti per un viaggio per sapere dove andare a mangiare bene vabbè non ho finito la Spagna e poi il Messico il Messico ragazzi cioè brividi la mia compagna sarebbe d'accordo loro fanno il mole queste cose il mole è una roba da piangere quelle sono brividi però poi non ho provato tutta l'America Latina infatti ti sto credendo adesso vado in modo al Peru tu devi andare in Colombia ne parlavamo prima devi andare in Colombia io mangiamo la trippa a colazione sì sì ma guarda sono stato in Guatemala io sono stato a Cuba un bel po' però ecco l'America Latina quella del sud proprio non l'ho non l'ho provata quindi lì mi manca quella roba lì sono stato in Australia a Hong Kong a Hong Kong mangi molto bene a Singapore anche trovi posti finissimi a Singapore pure in aeroporto mangi bene e spendi poco incredibile pazzesco pazzesco quelle anetre che hanno lì tutte caramellate che fanno pazzesco in Thailandia anche mangi bene se vuoi capito è che magari trovare il posto è un po' più difficile come trovi il posto beh allora sicuramente guide blog quando sono all'estero o chiamo qualche qualche amico che scrive qualche giornalista che magari è stato e mi dà delle dritte se siamo magari in Europa mentre per quanto riguarda i paesi dell'est lì bisogna farsi aiutare o da giornalisti in loco quindi in Cina magari mi sono fatto aiutare da dei giornalisti cinesi cioè incredibile perché viviamo nell'epoca dei social network dove la gente magari guarda un hashtag e dice beh no reputo più autorevoli la roba che dice la gente invece tu vai dai vecchi giornalisti io non mi fido di questi cazzo di social o di roba perché tu non sai non conosci la persona che ti sta cioè che ti sta dando il parere no una volta funzionava quel passaparola il passaparola era molto più leale e più sincero e onesto cioè tu sai che se quello lì non capisce una minchia di cibo e ti dice vai là che è buono non che vo perché non so che non ne capisci una mazza mentre se hai come dire considerazione di una persona e sai che hai i tuoi gusti sicuramente crederai molto di più a quella persona e ascolterai i suoi consigli con questo tripadvise non si può fare sta roba perché non lo conosci troppo rumore no ma ognuno può dire la propria e tu come fai a discernere a capire chi ha ragione chi non ha ragione perché loro dicono la sommatoria di tanti incapaci sono cazzate sono statistiche io non ci credo le statistiche quindi arriva al medio il medio lo trovi l'eccellente io non lavoro per l'eccellente ci vuole qualcun eccellente che ti dica che quello è eccellente esatto e quindi mi fido di gente che conosco e di cui mi fido un altro metodo che utilizzo quando non c'è proprio nessuno in loco che conosco è per esempio anche in Spagna è capitato in alcuni posti dove non sai non sono paesini magari non sono posti vado e scrivo in inglese o in altre lingue where to eat in non so to eat in Cordoba e vedo diversi blog e guardo magari la top 10 poi vado dalla top 10 a vedere le foto che ci sono sul web e cerco di capire perché per me TripAdvisor da me viene utilizzato guardando le foto cioè io in base alle foto capisco come si mangia vedo subito da come è impiattato da tante cose insomma quindi in base alle foto comunque sai che sai che io faccio più o meno come te e mi stupisco a dare credito a The Guardian cioè i giornali inglesi beh allora certo beh ma sicuramente hanno dei giornalisti preparati per quanto per lo meno seri ecco seri che non si fanno condizionare non tanto quanto alcuni nostri che si fanno condizionare dall'amicizia quello lì dai si è famoso bisogna dire che è famoso cioè bisogna scriverlo perché perché l'è famoso o perché ha fatto un investimento importante cioè cosa vuol dire poi bisogna vedersi se mangia ben vero tipo in Italia io leggo sempre scatti di gusto sono bravi scatti di gusto Emanuele Bonati e altri ragazzi sì sì cioè loro fanno queste classifiche come hai detto tu no la 10 migliori pizze d'Italia allora mi stanno anche un po' sulle palle queste classifiche cioè è come i panettoni che hanno rotto i maroni ok adesso no tutti fanno i panettoni ed è il miglior panettone no non è impossibile non c'è un miglior panettone poi se vuoi farmi le classifiche tra maestri pasticceri che dicono secondo loro qual è in una gara il miglior panettone va bene è una competizione hai dei parametri da seguire in base a quelli vedi qual è il miglior panettone ma non se poi in ogni rivista in ogni roba che è la lista dei migliori panettoni partendo dal primo ma che cazzo stiamo disendo cioè ci saranno un tot di panettoni buoni fatti veramente bene ognuno con le proprie caratteristiche uno può piacere di più a te uno più a te però non ci credo in queste classifiche tante volte ci siamo stati anche noi nelle classifiche e tante volte per fortuna ai primi posti però c'è anche lì è sempre una questione di soggettiva tante volte hai capito di umore di quel momento sì per me quando uno lavora bene ce la mette tutta certo che anch'io ho le mie classifiche se io vado a Lisbona ho cinque posti e ce n'ho uno migliore degli altri sicuramente però sono tutte belle esperienze e voi fate perché siccome seguo sui social te e i tuoi amici fate questi viaggi fra amici che andate a mangiare in giro insieme in chiacchiettini ma perché noi non lo facciamo per me la vita quello là lavora e basta oramai a me qualunque momento io prendo lo zaino e vengo prendete una macchinata e dite si va ho visto una foto che siete andati nell'entroterra ligure a mangiare alla brinca lì avete fatto schifio c'è una delle bottiglie pazzesche voi prendete quanti siete siete una compagnia allora sicuramente siamo io Enrico tante volte viene anche Iosef i miei due soci dell'osteria Pietro magari ha famiglia fa un po' più fatica ma vuole stare un po' più con la famiglia la domenica fate una gita e facciamo una gita anche gli altri hanno famiglia in realtà però magari sono più presi dalla goliardia e quindi facciamo una gita e andiamo nei nostri che sono quasi sempre trattorie o comunque ristoranti non di fine dining e ci facciamo mangiate bevute pesanti anche sul vino visto che stai aprendo questo nuovo progetto che tipo di taglio vuoi dare perché già mi immagino che non metterai non so ornellate io bevo io personalmente ornellate è buonissimo io lo bevo però dico sicuramente avrei fatto una roba anche lì un po' underground allora io bevo solo io ok non l'osteria io bevo solo vino naturale cosiddetto naturale cioè adesso anche lì sul naturale c'è un sacco di confusione ogni volta bisogna spiegarla io non ho più voglia di spiegarla dico che bevo vino naturale chi vuoi capire capisce chi non capisce fa problemi che casi soi no non c'entra solfiti o non solfiti solfiti sono presenti nell'uva naturalmente ok un basso quantitativo di solfiti aggiunti non è un grosso problema il problema per quanto mi riguarda è quello che succede in vigna nella natura cioè io non voglio che ci siano attività nocive alla natura perché a me non me ne frega un cazzo del vino mi interessa della natura cioè se noi rispettiamo la natura possiamo continuare a produrre vino in eterno ok non in eterno ma a lungo se noi invece la impestiamo di schifezze di chimica di robe fatte male non solo non produciamo più vino ma inquiniamo anche il pianeta quindi a me quando mi vengono a dire eh ma quello là è più buono di questo a me non me ne frega un cazzo se è più buono perché intanto è più buono cosa vuol dire è più buono se quel vino lì ci hai buttato chimica in vigna per farlo così l'hai sistemato in cantina ok quel vino lì è più buono ma non è reale non è la realtà l'hai costruito non è realmente così buono quindi per me vince la bontà sincera di un'altra cosa che non è stata costruita ma è stata accompagnata aiutata sicuramente ma senza costruirla quindi per me non è più buono io non bevo più quella roba lì capito cerco di evitarla come si fa a capire se un vino ha queste qualità allora io adesso ti dirò che mi accorgo nella maggior parte dei casi perché poi insomma ci sono vini fatti molto bene anche in maniera convenzionale però nella maggior parte dei casi mi accorgo quando un vino non è non è nature o comunque non è fatto in un certo modo me ne accorgo e non mi piace palato e naso non c'è un modo per devi ovviamente fare una ricerca in quel in quel verso quindi cercando vini di un certo tipo produttori che producano in un certo modo e poi ti devi fidare ovviamente certo nessuno ha le prove finché non va in cantina a vedere come lavorano e ci sta per un po' tra l'altro non che va in cantina e ascolta deve vedere quella è l'unica vera cartina torna sole non ci sono altri metodi vignaioli indipendenti certo ci sono degli enti poi come vignaioli indipendenti delle associazioni come triple A come anche solo la Demeter che certifica il biodinamico che in teoria ti danno una certezza una assicurazione che questi questi vini sono fatti in un certo modo ok nel rispetto di certi criteri che tante volte sono anche sostenibili rispetto alla natura e una serie di cose cioè perciò ovvio che ci vuole anche un po' di fede certo visto che ti piace io non ho fede nella chiesa ma ho fede in queste cose qua nel vino buono la tua chiesa è la trattoria no no neanche è il buon senso la mia chiesa capito quindi cioè bisogna anche fidarsi poi tutti vogliono in questo campo fare quelli che la sanno tutto che sanno tutto loro e se dici una cosa fuori posto ti attaccano io cerco di fare le cose sai che ho fatto un vino con Cantine Pasqua ok lo dico perché cioè mi piace Cantine Pasqua è una cantina convenzionale che fa 15 milioni di bottiglie all'anno quindi non è il vino che bevo io cioè dall'esse lunga anche no? sì non è il vino che bevo io loro sono delle bellissime persone di Verona e mi hanno cercato per fare una campagna stampa dove io non venivo preso in quanto cuoco veronese ma in quanto talento veronese fuori da Verona e quindi già però gli ho detto per partecipare a questa campagna dato che io il vostro vino non è il mio vino non è quello che bevo io di solito e dovete convincermi in qualche modo no? e non con i soldi io non ho preso una euro da quella roba lì che tanti pensano che l'abbia fatto per come marchetta no? e dovete convincermi con qualcosa di no? e allora Riccardo che è una bellissima persona molto curioso no? mi ha detto ti facciamo fare un vino come vuoi tu wow al che lì ci ho visto oltre al fatto di fare un vino come voglio io cioè oltre vuol dire fagli vedere a una cantina di questo tipo certo come si può fare a fare un vino in maniera sostenibile o comunque avvicinandoci il più possibile alla sostenibilità fico ok quindi li ho presi li ho portati qua a Milano gli ho fatto fare un giro di tutte le enoteche dove si beve vino naturale e gli ho fatto vedere che non è aceto cioè anche il vino che sa da asedo vero ma tanti sono fatti benissimo e non sono distinguibili da quello tante volte da quello eccellente convenzionale e da lì è partito sto progetto e abbiamo fatto questo ho chiamato un vignaiolo guru del vino cosiddetto naturale che ha accettato perché gli piaceva l'idea tutto in maniera sincera e entusiasta e curiosa cioè e abbiamo abbiamo creato questo vino hanno creato perché poi l'hanno fatto loro questo vino in una vigna che non era stata toccata da anni che era lontano da è venuto fuori un prodotto che adesso vedremo come si evolverà e l'etichetta c'è la tua faccia l'etichetta no ho scelto ho deciso tutto io perché volevo farlo tutto ma tu lo sai con l'aiuto con i consigli ovviamente però probabilmente lo sai che il vino più caro al mondo è un vino naturale ah beh Romani Conti no no e quello di Romani Conti è uno dei più cari al mondo ed è biodinamico naturale esatto che esce naturale cioè che esce più caro Romani Conti diventa più caro come si chiama Liberpater di Loic Pasquet è fatto tutto in permacoltura e a piede franco vabbè quello è una roba che è una fortuna quella del piede franco bella cercata quella fortuna ma certo ma in Francia ragazzi ci sono un sacco di realtà così vero Jackson è naturale se l'osso è naturale cioè capito anche in Italia ce ne tanti appunto quindi anche tra quelli non è che tutti i vini naturali sono da condirli in salata esatto quello che te l'ho detto come in tutte le cose ci sono le cose fatte bene le cose fatte male non è che c'è una roba meglio cioè capito fatto sta che ecco volevo dire sta cosa perché il progetto è già uscito il vino sì sì è già uscito è già uscito poi io dove si trova in giro ma credo che sì come si chiama Brasa Querta si chiama Brasa Querta in dialetto veronese significa qualcuno che sai sembra bravino ma sotto sotto è un birbantello birichino una braccia coperta che continua a covare e l'etichetta l'ha fatta Gianluca Biscalchin che è un illustratore che ha fatto anche le illustrazioni del libro è estacolare tutto il progetto e c'è una pecora nera davanti sull'etichetta che ha i tatuaggi come i miei perché abbiamo c'è bucca facci vedere dai fate qualcosa se no siete lì sempre a fare un cazzo è già pronto è già pronto qua però c'è uno letto è bello che abbiamo bevuto pure il caffè la cosa guardala ah fico vedi è una pecora nera in mezzo in mezzo a tante pecore in greggie bianche che vanno in un verso e questa è girata nell'altro e vuol dire molto certo si capisce uscire dal greggie e dietro nella scheda tecnica c'è scritto tutto di quel vino lì cioè c'è scritto tutto quello che è stato utilizzato quanto costa una boccia di questo non lo so non mi interessa la parte economica né marketing no esatto non mi interessa perché io non l'ho fatto per perché mi hanno dato dei soldi o per fare il figo l'ho fatto proprio sì sì cioè non c'è scritto neanche da nessuna parte che l'hai fatto tu no neanche dietro zero no non credo non lo so guarda non lo so io metterei dappertutto ma non mi interessa ragazzi cioè allora se tu vuoi andiamo su shop online vediamo quanto costa se tu vuoi cambiare le cose non devi metterci di mezzo i soldi perché se cominci a pensare i soldi non cambierai mai niente devi intanto crederci tanto poi certo che ci vuole un riscontro anche economico tante volte vero non è che non faccio tutto gratis però qua mi sembrava veramente una figata perché perché se vuoi cambiare le cose non puoi andare dai piccolini è come quando ho aperto identità di carne ho detto io non mangio carne e voi non dovete mangiare carne e quelli lì figurati perché cos'erano lì identità di carne cioè parla di carne no ma proprio quando vuoi cambiare le cose non devi parlare a quelli già nella tua strada o sulla tua strada devi parlare agli altri il sistema si cambia dall'interno si si esatto esatto sporcandosi le mani devi parlare a quelli che non ci credono a quelli che vanno contro questa cosa hai capito e quindi se vuoi cambiare le cose nel mondo del vino naturale non puoi continuare a parlare tra di tra un gruppo dagli yes men perché sono già d'accordo o comunque dai piccoli sai sono tutti piccoli produttori tutte piccole realtà che tra di loro cercano di fare squadra di farsi forti ma comunque non cambi la storia così la cambi se prendi una multinazionale una grossa cioè cambi il mondo in quel modo prendendo una multinazionale perché se cominciano questi qua grandi a cominciare a rispettare l'ambiente cazzo c'è un miglioramento che giova a tutti non solo a te piccolino che fai due ettari capito questi qua che ne ha dosento di ettari capito se riusciamo a bonificare duecento ettari allora hai vinto perché poi quegli altri grossi come loro capiscono che si può fare e fai anche che diventi un trend una moda ben venga ben venga se deve diventare una moda qualcosa di etico che diventi una moda guarda non solo sposiamo quello che hai detto ma lo applichiamo sempre perché noi ci occupiamo di formazione finanziaria e diciamo sempre ti fa schifo la finanza pensi che sei cattiva bene allora devi iniziare a lavorarci perché se lasci la finanza al mondo dei cattivi tra virgolette cattiva rimane sì certo allora inizia tu cambiala da dentro finché dici no che schifo brutta cattiva non cambierà mai niente bravissimo sì c'è questo giornalista del cos'era? The Guardian forse lui no? Scott sì Brett Scott che ha fatto questo libro lui è un attivista della della sinistra progressista che poi oramai non ha più senso tanto destra e sinistra però è una persona che metteva al centro l'etica nel suo modo di agire e però era anche laureato scusa non ti guardo perché se no il microfono vai 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 era anche laureato in economia e finanza eccetera ed è diventato un importante economista e ha scritto questo libro how to hack finance how to hack the financial world come piratare il mondo finanziario diciamo quello che diceva Enrico prima dicendo la finanza è un'energia il denaro è un'energia dipende come lo usi è ovvio che se tu non sai padroneggiare la forza come dice Guerre Stellari è ovvio che sarai sempre vittima di chi questa forza la sa usare quindi entra dentro nel mondo sporcati le mani non essere snobbista e cerca di fare qualcosa attraverso gli stessi strumenti che in quel momento ti stanno sulle palle è quello solamente che siamo tutti troppo attenti a proteggere la nostra idea o comunque a rivendicarla nessuno ti toglie a piccolo produttore di vino la come dire la natalità della nascita di questo progetto certo che nasce da te nasce dal basso ma non vuol dire che non ti possa tu mettere in contatto con queste cantine spiegargli come si fa fargli cambiare idea dimostrargli che si può capito tanti di questi enologi che ci sono dentro queste cantine non conoscono niente del mondo naturale niente lo vedono come una roba da frichettoni capito ma arriva è un'onda che arriva secondo te ma è arriva è dura perché ci sono degli interessi finanziari che comandano come in tutte le cose cioè tutte le cose etiche sono sempre in contrasto con degli interessi economici importanti adesso i fondi di investimento migliori del mondo sono i fondi etici cioè la finanza etica è quella che sta spaccando di più perché hanno capito più che secondo me che salviamo il pianeta hanno capito che può essere un trend ma ben venga ben venga ben venga ben venga Diego la domanda più brava dove li fai i tatuaggi quello lì prima di chiudere quello lì che hai i fiori qua mi piace un casino dove l'hai fatto quello questo quello l'ho fatto a Verona dal Beppe in Caddiction e poi che stile è in Giappo Giappo allora dato che dobbiamo chiudere ci darai la ricetta della trippa vabbè ma c'è scritta qua ragazzi ah c'è scritta ma poi sei bellissima ma che cazzo c'è la trippa la faceva mia nonna la faceva mia mamma non è mica una roba complessa quindi per sapere la ricetta della trippa come la fai tu bisogna comprare ma infatti ma delle volte nei ristoranti tipo la mia compagna quando andiamo a mangiare fuori chiede sempre ma questa salsina qua come la fate e tutti i ristoratori dicono non te lo dico perché ciò è segreta ma che cazzo c'è di segreta ma tutti non te lo dice nessuno anche se invece tu hai detto tutto ma sì ma perché non sono le ricette che fanno la differenza a meno che non parliamo di pasticceria no super o di alcune ricette particolarissime ma è la mano è la sensibilità sono le capacità del cuoco io ti posso dare la ricetta sono scritte lì ma magari non verrà no perché magari non hai i miei ingredienti magari non sai scegliere gli ingredienti non sai trattarli non hai la mano non hai la mano la mano è palato e soprattutto posso dire l'entusiasmo a me piace cucinare cucino spesso ho il tempo di farlo mi chiedono ah mi insegni la ricetta della fagiolata io poi gli spiego sì questi sono gli ingredienti però poi tu devi stare là e devi muoverla devi assaggiare continuamente ti puoi allontanare 30 secondi se no non viene così vedi cioè la bravura del cuoco non sono le ricette quelle si comprano si copiano perché si vergognano crema non dicono boh c'è un paura che guarda io non ho mai avuto di sti problemi oppure quella cosa che odio nei ristoranti poi chiediamo non ho le ricette improvviso tutto quindi la cosa che odio nei ristoranti sempre di più adesso è quell'atmosfera di terrorismo che è palpabile nell'aria che hanno soft e inversa nei tuoi confronti di questo eccesso di gentilezza perché hanno la caccarella che tu poi gli fai la recensione negativa mi sento mi viene l'ansia ma certo ci mancherebbe esagia e poi addirittura finisce con mi raccomando ci faccio una bella recensione ecco la roba lì è abominevole quella è peggio del peggio abominevole cioè non si può con tutto il rispetto però mi raccomando mi faccia poi le faccio oppure ti offrono da bere però magari poi ci scrivi la recensione non te la faccio ti attacchi quindi tanto guarda io sono per secondo me scusa se tripadvisor il problema tripadvisor tripadvisor mi piace che non è nuova chissà quante volte c'è mi sa tripadvisor c'è già abbiamo pensato di farla all'inizio però poi c'era già però il problema di tripadvisor è che fai parlare cani e porci dando libertà ma sai tante volte troppa libertà non fa neanche bene in questi casi qua quando non è regolata da nessun tipo di regola perché lì non c'è una regola lì non devi dare identità non devi non sanno chi sei ma neanche lo scontrino magari non ci sei niente esatto bravissimo bravissimo quindi se è regolata va bene se non è regolata la libertà non va bene regolamentata tripadvisor basterebbe non far scrivere se tu vai in un posto non ti piace non scrivi non vieni indicizzato non compari non esisti capito mangi bene invece scrivi che hai mangiato bene così compaiono solo recensioni positive e tu se un posto non lavora bene verrà cioè sarà più basso in classifica ma non viene rovinato non c'è modo di scalfirlo con recensioni inventate o cose del genere perché capito nessuno inventerà e poi fai caso quando tu prendi su un tot di recensioni vai a vederti subito quelle negative e quelle negative avranno sempre più valore di quelle positive devo dire che lo faccio anch'io per gli alberghi vado a vedere tu non vai a vedere come mai si mangia bene tu sai che in quel posto lì si mangia bene o comunque presumi che si mangi bene vai a vedere che cazzo c'è che non va comunque Diego tu hai un entusiasmo pazzesco che credo che passi tramite anche la telecamera ed è probabilmente uno dei segreti di quello che fai e l'altro segreto ce l'hai svelato poco fa lo riassumo con una frase di qualcuno che non mi ricordo chi è quindi dico che l'ha detta Einstein perché tanto lo dice tutte lui tutte Einstein oppure Osho Osho adesso è lui e la frase è questa se io ho una mela e la divido con te abbiamo due mezze mele se io ho un'idea e la condivido se io ho una ricetta e la condivido con te abbiamo due idee e due ricette creiamo abbondanza moltiplichiamo le cose e speriamo e stiamo tutti meglio e speriamo che questo movimento sia solo all'inizio Diego grazie grazie ragazzi grazie ragazzi grazie ci vediamo presto speriamo e ricordati guardaci bene guardaci bene siamo quelli del bazar atomico dobbiamo venire a mangiare mi raccomando ciao Diego grazie ciao ragazzi bazar atomico this was launch il bazar atomico grazie a tutti